Buonasera amici. In occasione del 423esimo anniversario dell'Ecidio Oscurantista di Campo dei Fiori in Roma, si svolgerà un simposio sulla personalità e la dottrina magico-ermetica di Giordano Bruno, il tutto organizzato da pagine filosofali e dall'Associazione Il Cervo Bianco di Napoli, con il patrocinio della stamperia del Valentino e la casa editrice Rebis. I relatori della serata saranno Mino Gabriele, che ha curato per Adelphi il Corpus Iconograficum di Giordano Bruno nella sua interezza. Ci parlerà di Bruno e del suo rapporto tra immagine e immaginazione. La dottoressa Clementina Gili Reda ha insegnato estetica ed educazione all'immagine all'Università Federico II, autrice di numerosi saggi. L'argomento della relazione è Il furore dell'ingegno. Alessandro Orlandi, studioso di esoterismo e fondatore della casa editrice La Lepre, collaboratore della stamperia del Valentino, ci parlerà della storia legata al monumento a Giordano Bruno inaugurato a Campo dei Fiori a Roma nel 1889. Sigfrido Obel, storico ricercatore della tradizione esoterico napoletana, collaboratore della stamperia del Valentino, ci parlerà del mito di Azione all'interno degli eroici furori. Stefano Maiorca, studioso di scienze esoteriche ed ermetiche, pittore e poeta, ci parlerà del raffronto tra la dottrina di Giordano Bruno e quella di Tommaso Campanella. Daniele Laganà, animatore del Cervo Bianco di Napoli, realizzerà per noi un approfondimento su magia e immaginazione. Passo la parola a Luca Valentini. Grazie Rosanna, grazie a tutti i follower di Pagine Filosofali e dell'Associazione Cervo Bianco di Napoli, che ci seguono su YouTube, sulla pagina Facebook e sui nostri canali YouTube. Vedo che ci state collegando in tantissimi. Bene, noi vogliamo realizzare questa sera un simposio a più voci, anche con sfumature diverse, con opinioni anche contrastanti, perché è giusto che sia così, perché come è nella filosofia del nostro network, delle nostre pagine, è quella di mettere a confronto idee, esperienze, studi diversi. Abbiamo dei centri universitari, abbiamo degli studiosi, abbiamo degli editori, quindi chi avrà la pazienza di fare notte con noi questa sera, avrà un ventaglio di opinioni e potrà farsi la propria opinione, ovviamente confrontandola con quelli che sono i vari testi dedicati a Giordano Bruno e i testi di Giordano Bruno, perché non bisogna mai dimenticare l'importanza di leggere i testi in originale. Io passo subito la parola, e lo ringrazio perché, come tutti gli altri ospiti, per noi è un onore averlo per la prima volta, il cui su Pagine Filosofali, il professor Mino Gabriele, che, come diceva Rosanna, ha curato i testi di Giordano Bruno per Adelfi, e al professor Gabriele Chiedo, oltre all'importanza di ricordare questo grande, chiamiamolo pensatore per usare un termine generico, del tardo rinascimento, della prima età moderna, diciamo siamo un po' al limite, quanto i suoi studi sull'iconografia, sulle immagini, hanno penetrato il pensiero e la dottrina profonda di questo personaggio, e quanto magari nello studiarlo ha trovato delle criticità anche della personalità degli studi, perché è giusto, come dire, non fare l'apologia di nessuno, ma essere quanto più possibili oggettivi. La ringrazio e passo la parola al professor Gabriele. Grazie e buonasera a tutti. Il mio intervento riguarda soprattutto lo studio che ho svolto sul rapporto testo-immagine nelle opere di Bruno, quindi in sostanza mi sono dovuto leggere tutto Bruno, e poi vedere la relazione tra il testo e le illustrazioni, le escenografie, che ornavano e ornano naturalmente i suoi volumi. Va detto che una gran parte di queste escenografie, esaminate con la lampada di Bute, confrontate, esaminate con grande culo ovviamente, allora, rivelano una mano sua, originale, che del resto è confermata anche da un'introduzione alla software da parte di un editore tipografo. Quindi Bruno incideva, illustrava il suo pensiero. Questo è in sintesi il discorso, cosa unica nella storia della filosofia, per cui abbiamo pensato in letto, questo incontro tra elaborazione, rubrazione, meditazione, riflessione e naturalmente cognizione del mondo, e la presentazione grafica della medesima elaborazione. Quindi è un fenomeno più unico che raro, cioè non risulta che Platone o Leibniz o Cartesi o altri si siano messi lì a incidere o a illustrare in qualche modo il proprio pensiero. E questo è già un fatto singolarissimo. Le incisioni fatte da lui medesimo sono realizzate in maniera infantile, esaminandole, come dicevo, con grande cura, emerge proprio una mano insicura, una mano, insomma, del tutto estranea a un artista. Ciò non toglie che siano particolarmente significative, importanti, perché nel gioco testo-immagine, nel gioco dove entrambe le modalità espressive si coniugano per ancor più chiarire il pensiero filosofico di quest'uomo, è evidente che sia uno sposalizio di grande indietro. Io devo dire che ho durato grandissima fatica non solo a leggermi tutto Bruno, che non è facile, che non è facile, e poi trovare tutti gli spunti, esaminare ancora tanto materiale, sopra poi probabilmente questa edizione verrà rifatta al prossimo anno, fra due anni, già un po' che se ne parla con l'editore, dopo venti anni, proprio per che oltre sia riscoperte che ho fatto successivamente, per riproporre quest'opera così esaurita e ancora ricercata. La partenza è stata molto ardua nel momento che quando uno indaga qualcosa, dal punto di vista scientifico, filologico, storico, come vogliamo, la prima cosa che fa va a vedere la bibliografia. Ebbene, quando io ho avuto questo incarico dal Comitato Scientifico per le celebrazioni, ho dovuto solo trarre la conclusione che non c'era niente, ovvero nessuno si era occupato delle immagini di Giordano Bruno. Questo l'ho anche scritto, o perlomeno c'erano dei piccolissimi saggi, delle piccole cose, addirittura nelle edizioni sono ricostruite un po' queste costruzioni grafiche e geometriche di Bruno in maniera moderna, cosa che ho fatto anch'io, ma inserendo prima le incisioni, studiandole, vedendole la costruzione geometrica e riproponendole. Quindi una sorta di... sono immagini neglette, immagini poco considerate, eppure costituiscono l'elemento, uno degli elementi fondamentali di Bruno. Perché dico questo? Perché Bruno fa un'operazione che del resto è anche del suo carattere, che deve essere un carattere più o meno insopportabile dal punto di vista umano o psicologico, per la sua enorme autorità, non voglio dire presunzione, a parte che un personaggio del genere se è presuntuoso gli viene ampiamente perdonato. Ecco, perché lui fa un salto rispetto al Lullo, che era una delle fonti, una delle fonti, che rispetto a una visualizzazione circolare delle cose, tra tutte le rotte di Lullo che conoscete, lui a un certo punto precisa che salta e parta alla finestra, alla finestra immaginale, tema che naturalmente ha una storia bellissima, la finestra del cuore, la finestra della mente, c'è già il claccio, il citerone, c'è tutta la letteratura sopra, e in particolare c'è il polifilo, che forse mi conosceva, perché nel polifilo abbiamo alcune pagine dove l'operazione immaginativa è descritta in maniera tecnica come da nessun'altra parte. e poi esiste un manoscritto qui a Firenze che ho pubblicato anche, attribuito a chi ha Campanella, chi ha Bruno, insomma dell'ambiente dove appunto si descrive la produzione immaginativa del pensiero. Quindi Bruno perché sviluppa la finestra rispetto alla ruota o al circo? Perché la finestra gli pone esattamente una visualizzazione in profondità. La visualizzazione della finestra, cioè di un finestra intendo un quadrato, un rettangolo, che lui poi addirittura insisterà molto su questo aspetto anche nell'ultima delle sue opere, dove cerca di ribadire anche una volta sull'immagine o composizione quanto sia importante l'immaginazione, va bene, l'immaginazione per costruire la struttura del pensiero, che deve essere ordinato mnemonicamente e quindi la finestra con gli angoli, questo è il punto cruciale, con gli angoli che pone, ai quattro ovviamente in un quadrato, ci sono quattro angoli, ma interni ed esterni, sia convessi che naturalmente concavi. Quindi lui inserisce all'interno di una forma geometrica quadrangolare tutta una serie di punti che diventano dei losci, dei losci dove si vengono poste delle immagini. Questa struttura, il Bruno, diventa una chiave di volta perché realizza appieno quella che è un'immaginazione ordinata, un'immaginazione ordinata in prospettiva, questa è la grande differenza anche a Lullo. Cioè Bruno poi, alla fine dei conti, scusate se salto un po' da un argomento a un altro, non è che inventa nulla diciamo di straordinario, semplicemente perfeziona tutto il pensiero precedente. La magia di Agrippa, il pensiero di Ficino, la stessa memotecnica di Pietro da Ravenna, che è il suo maestro, cosa lo dice anche se ovviamente era già ben sepolto, va bene, col Fenix. Quindi abbiamo una serie di interventi che perfezionano e arricchiscano in maniera profonda, alta, nobile, quello che è una speculazione già precedente, c'è l'arte della memoria, come sappiamo tutti, una disciplina greca, poi latina, medievale, ma lui la porta a dei livelli straordinari, cioè a dei livelli talmente complessi, elaborati, soprattutto a livello tridimensionalista, grazie alla finestra che fa lui, immaginativa, che è praticamente lui che elabora veramente i computer, è lui che inventa il computer mnemonico, perché costruisce una struttura che non ha di fatto fine. Ora, noi sappiamo che i mondi infiniti nascono dal discorso che se Dio è infinito non può non aver creato i mondi infiniti, questo è il ragionamento filosofico e logico. In realtà, poi, ci sono alcune immagini, alcune escenografie di Bruno, dove, se noi non le leggiamo più, come del resto lui dice, in una dimensione bidimensionale, cioè, se noi guardiamo un muro, o una stampa, o una figura, abbiamo una bidimensionalità. Se invece questa finestra non è bidimensionale, ma è una profondità, come del resto lui dice, ecco che questi numeri, queste lettere, queste immagini, questa costruzione, mnemonica, ordinata, razionale, architettonica, può procedere in profondità. Ed è una profondità del pensiero che si distribuisce, secondo strati diversi, in lontananza e può arrivare dove vuole. Come dice Bruno, tra l'altro riprendendo i neoplatonici, i platoni e così via, cioè, vola con le ali dell'intelletto, vola, sei libero. Questa è la sua grande potenza. E la sua grande potenza è quella di avere insegnato un gioco che è abbastanza, che non so se fossero avessi conto i sensori o coloro che l'hanno messo a robo. Ma lui, a un certo punto, nelle sue, diciamo, strutture anche filosofiche, più delicate o più complesse, laddove fa il discorso, scritto, non lo leggiamo, scritto, pone delle immagini che non c'entrano. Ovvero, lui dà delle regole nello scritto, nella pagina scritta, delle norme, di solito mnemoniche, di distribuzione di loci, di distribuzione di immagini, in cui dimostra il pensiero. E poi c'è l'immaginetta, la figurina, la figurina e l'incisione. E l'incisione non c'entra niente. Io quando questa cosa mi ha fatto diventare un po', come si dice, in Toscana, un po' grullo, nel senso che perdevo, non capivo, cioè qui avevamo due pagine, una pagina scritta, una pagina figurata, ebbene, che non concordavano, benché fossero una, lo specchio dell'altra. Poi alla fine, per fortuna leggendolo tutto, con pazienza, naturalmente, appunti, controappunti, controllare, rivedere, così via, ecco, alla fine ci sono due, un paio, due o tre punti che emergono e lui di fatto, scusate, c'è il telefonino, ecco, emerge il fatto, scusate, allora, scusate l'intrusione di un telefonino estraneo, detto questo, dico emerge, in questo gioco, testo, immagine, è la spiegazione che dà lui stesso, cioè io nel testo ti do, ti offro, la regola generale per pensare, quindi io ti pongo la mia filosofia, i principi della mia filosofia, o del mio modo di pensare, da un punto di vista normativo, che è questo, ma, e questa è la differenza, l'immagine che ti propongo rispetto a queste norme, è quella che uso io, ti puoi usare, cosa ti pare? Cioè, ti puoi usare, rispettando questo, diciamo, queste regole, queste normative, queste leggi, chiamiamole come vogliamo, che io ti do di posizione, di loci, di immagine, di pensiero, eccetera, eccetera, tutto questo poi è detto ed è spiegato con immagini straordinarie, legate spesso alla mitologia, all'astrologia, eccetera, eccetera, ecco, ti do queste normative, però la figurina che vedi, questo lo dice al lettore, è come io interpreto questa legge generale che io ho fatto, io ti do una regola, generale, che poi mi interpreto a modo mio implicito e ti interpreta a modo tuo. Questo è veramente un atto notevole perché siccome il pensiero brugnano è fondamentalmente un pensiero cosmologico, magico, ma nel senso della magia di Ficino, la magia naturale, non c'è niente, dunque, è ben essi chiari, in Giordano Bruno non c'è niente di magia tipo magia nera o magia strana, né tantomeno di alchimia, non c'è assolutamente nulla, chi lo dice è che non ha letto Bruno e dice sciocchezze. In Bruno c'è soltanto una visione magica come ce l'aveva Campanella, come ce l'aveva Ficino che è una delle fonti essenziali, e anche Agrippa che pure è una fonte per certi mezzi, la magia di Agrippa ha dei talismani, delle cose, certamente, ma fa parte anche questo di un rapporto micro-macrocosmo e di relazioni tra colori, tra posizioni, tra una serie di questioni che ora nel caso di affrontare. Ma Bruno non ha minimamente niente di magico in senso negativo e niente assolutamente di alchimia da nessuna parte. Non c'è una parola in merito. Quindi noi ci troviamo di fronte, invece, a un grande pensatore, a un pensatore cosmologico, come di resta da tutti i grandi filosofi. Infatti, viene da ridere a me quando oggi in televisione si intervista qualcuno o qualche studioso e dice, ora parla il filosofo, tizio, il filosofo caio. Ecco, cosa che viene da ridere perché gli ultimi grandi filosofi sono naturalmente il Bruno, poi c'è il Newton, poi c'è i tedeschi, c'è il Kant, c'è gente che ha una visione cosmologica e dal vermicello sottoterra alla stella più alta è in grado di collegare queste relazioni e poi reinserirla all'interno di moralità, della morale, va bene, e della vita quotidiana e della visione cosmologica. Questo è il grandissimo Bruno e questa operazione avviene attraverso una potente facoltà naturale mnemonica straordinaria tipo Pico, Pico della Mirandola, cioè Bruno si ricordava di tutto, tutto, era un fenomeno straordinario e inoltre assorbiva con grandissima capacità il pensiero altrui che a un certo punto quando gli era chiaro e lo condivideva diventava suo. Infatti, quando lo mandano via ad Osport i professori di Osport si offendono e si arrabbiano e dicono ma questo è Ficino. No, a rifletterci bene, no, è Bruno che ha fatto sue quelle idee al punto tale che sono le sue idee. Cioè, a tutti noi capita delle idee che sono state assorbite e trasformate magari da una frase di un amico, da un incontro con una persona che ci ha detto delle cose e le condividiamo al tappunto che diventava nostra. E Bruno ha una voracità di assorbimento che è enorme e quindi lui si compendia per riprendere Cusano che non è vicino che conosce neoplatonici, conosce senza altro la struttura immaginativa che porta ai livelli altissimi. cosa che non è mai stata anche questa mia strana l'ottima evidenza. Io l'ho fatto nel libro naturalmente per riportare anche questo manoscritto di Firenze del Cinquecento in metà Cinquecento o fine Cinquecento dove poi ci sono queste tecniche perché Bruno è un tecnico dell'immaginazione non è solo un filoso è un tecnico dell'immaginazione è un altissimo tecnico dell'amlimo tecnica che porta a un livello inaudito inaudito ma è possibile scusate scusate tanto perché c'era il telefonino poi un altro inconveniente che capita nelle famiglie niente di grave e nulla io questo volevo dire e poi io ti ringrazio Mino ti ringrazio perché veramente ci tenevamo tanto e anche perché gli studiosi poi che gli appassionati di Bruno hanno avuto la possibilità con te e anche con gli altri ospiti che interverranno adesso di confrontarsi con chi ha curato le opere di Bruno ed è stata molto importante la tua precisazione inerente all'alchimia e soprattutto alla tipologia di magia ricollegandola da grippa a ficino come dire separando un po' da ciò che comunemente si intende con quel tipo di lessico diciamo quindi bisogna stare molto attenti a queste cose se no si fa confusione si dico sciocchezza è un grande filosofo non è né un mago né un alchimista ti ringrazio e spero di ritrovarti con Alessandro parlavamo del tuo saggio sui sette oggetti fatali di Roma magari organizziamo una diretta su quello e approfondiamo anche quello veramente grazie lo farò con piacere ringrazio tanto Alessandro te naturalmente tutti gli ospiti io mi devo scusare ma devo andare grazie grazie di cuore e buona serata grazie grazie anche a voi tutti e buona serata a voi arrivederci arrivederci grazie al professore Mino Gabrielli adesso passiamo la parola alla dottoressa Clementina Gili Reda allora prima di tutto mi spiace di non aver potuto dire professore eh Mino Gabrielli che effettivamente il suo libro è stato un punto capitale per gli studiosi di Bruno perché ha aperto tutto un settore certo già eh non so la cena delle ceneri e anche eh le ombre delle idee che sono eh tra i primi scritti e anche tra quelli che si riescono a trovare anche in edizione singola anche fuori di questo grandissimo lavoro fatto dalla scuola di Ciliberto però sicuramente eh sono questo lavoro di questi scritti soprattutto per quanto riguarda gli scritti datini è stato veramente importante perché prima c'era solo tocco e Mino Gabrielli in particolare con tutte queste eh immagini date in modo completo e anche in modo molto efficace tanto per dire ecco lui non l'ha fatta vedere ma questa è una cosa che c'è nel suo libro e che è appunto quella ruota le prime ruote della memoria che sono effettivamente lui l'ha detta con molta eh con molta semplicità sono effettivamente eh la prima idea abbastanza stabile del computer per cui effettivamente è probabile che Bruno sia stato colui che ha dato quell'idea che poi Leibniz e Pascal hanno subito girato però verso la logica binaria lui invece perché c'era stato Cartesio c'è Cartesio e Galilei di mezzo tra Bruno e questi autori e quindi poi diciamo la logica dei computer non ha ha lasciato da parte l'idea di Bruno che era l'idea di una logica simbolica basta dire questo a un gruppo appunto di persone che eh si occupano di pagine filosofali per capire quanto è importante diciamo il pensiero di Bruno ecco perché io per esempio vi ho portato delle slide che penso che ora vedremo e perché ieri abbiamo fatto una commemorazione qui a Napoli una commemorazione perché poi diciamo la verità il 17 febbraio che è il giorno del rubo noi commemoriamo un un evento terribile l'evento peggiore della vita di Bruno e sicuramente quello per cui non avrebbe desiderato di essere ricordato io spero tra poco il 27 marzo invece di fare un altro discorso sempre su Giordano Bruno però ricordando la la soluzione la finale il giudizio che poi diede il tribunale di Venezia che era semplicemente una condanna da prigionie perché lui aveva qui e lì fatto una serie di cose che la curia trovava importanti a discutere ma non certamente una condanna morte ecco il 27 marzo possiamo celebrare Bruno il nostro Bruno di noi che abbiamo poi dedicato molti anni a studiarlo perché lui oltre che il furore dell'ingegno passiamo oltre il titolo con la slide oltre che diciamo essere importante passiamo oltre alla seconda slide ecco che questo è solo il titolo ecco allora in effetti noi dobbiamo ricordarci di Bruno soprattutto come di uno che secondo me ci aiuta a pensare l'oggi la giornata di ieri era intitolata il rinascimento prossimo venturo io credo che Bruno abbia la possibilità di dire molto agli uomini di questo nuovo millennio perché Bruno vive come noi un'epoca una nuova era un'epoca in cui si avverte un cambiamento talmente forte rispetto al precedente all'epoca precedente che addirittura si parla di nuova era quindi un cambiamento totale ricordo di aver sentito molti anni fa Cesare Unsatti parlare di della nostra situazione di uomini che siamo distanti da nostro nonno quando nostro nonno era distante dai romani questo lui lo diceva all'istituto di studi filosofici nei tempi eroici anni 80 80 forse 70 80 oggi potremmo dire molto di più è non più paragonabile la nostra epoca a quella anche che noi stessi quelli un po' più avanti negli anni hanno vissuto non c'è un grande paragone tra i decenni trascorsi e l'orgi è effettivamente cambiata un'era e ogni momento una variazione tecnologica ci impone di cambiare abbastanza radicalmente la nostra vita perché è cambiato così tanto è cambiato così tanto perché quando cambiano per esempio tante strutture della società però ecco si è consentito a uno studioso di estetica e soprattutto a uno studioso di parole piuttosto anche di parole oltre che di immagini dire che insomma cambiamenti radicali sono stati individuati dai filologi proprio nelle epoche in cui cambia la scrittura tra Socrate e Platone vi ricordate la differenza Socrate non scrive nulla Platone scrive un'enorme quantità di opere tanto che Aristotele inventa il principio di non contraddizione per riuscire a dominare questo mondo che è diventato infinito altra variazione importante questo perché? perché nella lingua greta erano state introdotte le vocali era diventata una lingua vocalica dopo le consonantiche questo fatto fa sì che si sviluppi diciamo una logica diversa e cambia quindi il rapporto con la scrittura che viene reputata da allontanare oppure da seguire altra differenza importante è quando si passa dai rotoli ai manoscritti quando si passa dalla stampa manoscritta a Gutenberg noi oggi con la rivoluzione tecnologica abbiamo semplicemente oramai una nuova lingua indominabile da imparare un po' da soli come abbiamo sempre imparato le cose diceva Pasolini non ci dobbiamo spaventare perché la lingua del cinema è in fondo la nostra lingua madre ma nella nostra lingua madre parlavano le tradizioni delle nonne parlavano tutti i libri che leggevamo parlava la storia dei monumenti che vedevamo nella lingua di oggi passa invece l'elaborato di equip ampie e ben costruite di persone espertissime di target e di scienza della comunicazione non si può assolutamente dire che la lingua che noi imparavamo dai nostri padri conoscendo non so diciamo 30-50 persone proprio nei casi eccezionali e due tre quattro paesi diversi è chiaro era una vita molto più limitata come patrimonio di immagini e di parole oggi invece questa lingua che dai bambini piccolissimi a noi ci apre sconfinate visioni tanto che sempre più volte è tornata l'idea del formicaio prossimo venturo cioè di questo mondo in cui neanche noi poi riusciamo molto bene a capire le direzioni verso cui si va ecco questa enorme variazione che è cominciata due secoli fa cioè con i trasporti rapidissimi e con la comunicazione che diventava mano mano istantanea come ora ora tutta questa variazione però io credo che nel mondo d'oggi sia esplosa con la pandemia questa è la situazione difficile anche dal punto di vista storico in cui ci troviamo perché in realtà un lungo tessuto di instabilità che la ricerca registrava è chiaro perché la ricerca fin dagli anni 60 70 ma anche prima ha registrato che c'erano entravano in crisi molti elementi della tradizione e si trasformavano troppo velocemente perché gli intellettuali potessero star dietro a questa cosa quindi tutti gli intellettuali più furbi si sono dedicati immediatamente a scegliere delle strade rapide anche loro evitando di porsi il problema e in sostanza non hanno fatto quello che tutti gli intellettuali fanno sempre e cioè essere sincretici come diceva un attimo fa il professore Gabriele dicendo un po' la situazione che si crea nel mondo d'oggi quando in pratica ci si trova a dover governare una realtà così ampia che non riusciamo più a capire cioè praticamente ricorriamo al passato però disordinatamente il filosofo è abituato invece a prendere i problemi esaminarlo e se non ha poi questi grandi bisogni di apparire studia tutto il tempo e arriva a vedere le cose in un altro modo rendendosi conto che la situazione è tanto più grave oggi perché esplosa e come sapete la guerra e soprattutto io trovo un'instabilità costante nei rapporti umani è diventata più frequente perché non tutti quanti ecco stanno sfruttando come noi stiamo facendo in questo momento le grandi virtù che ha la rete e quindi spesso poi ci si ritrova in una situazione difficile possiamo andare avanti con la slide allora in sostanza noi dobbiamo porci dei problemi in modo più integrale e ricominciare a fare il nostro lavoro anche di intellettuale il lavoro di intellettuale è un lavoro come tutti che ha un metodo ha delle regolarità di studio delle continuità e a me piace definirla arte di ragionare visto che mi occupo di estetica e quindi l'arte è un po' secondo me una cosa sì arrivo anche a questo c'è stato un intervento sull'omologazione totale vedrete alla fine io vi consiglio proprio un libro per chi è preoccupato di queste cose che affronta molto bene questo problema dell'omologazione perché è proprio a lui che mi riferivo Stiegler cioè ve lo dico subito poi se ci riusciamo a riparare Stiegler che scrive un libro che si chiama Miseria Simbolica è uno morto nel 21 il libro è addirittura del 22 molto bello perché ritorna su questa idea del formicaio umano che sapete già da Orwell Axley insomma il novecento ne ha fatte tante di queste distopie su quest'uomo che viene reso conformistico è privato della sua capacità di pensare razionale allora questa omologazione è un problema però i problemi ci sono sempre stati soltanto che si affrontano i problemi ecco ecco perché io prima vi dicevo nella slide prima avevo sottolineato quel titolo costruttivismo il costruttivismo è il voler risolvere i problemi perché i problemi è sempre facile risolverli è chiaro bisogna però affrontarli avendo le possibilità e le capacità di farlo quindi risolvere un problema non vuol dire che io posso riuscire a fare in questo momento la politica ideale tante volte le utopie si sono illusi di fare questo in generale bisogna scegliere di maturare dei piccoli concetti io per esempio in alcune conferenze in un seminario ho esaminato il concetto di benessere e se ci fate caso provate a definire oggi questo concetto di benessere e vedrete che è molto difficile è chiaro bisogna incominciare con una serie di no allora da dove vengono questa serie di no? e qui incomincia questa nuova slide basterà la cabala? cioè basterà oggi il pensiero numerico? voi però tutti che siete su questo sito sapete benissimo che la cabala non è il pensiero binario ma comunque era del pari una soluzione basata sulla numerologia cioè sulla possibilità di codici attraverso una serie di codici numerici io riesco a conseguire una serie di arcani che poi in conclusione con dei ragionamenti di tipo lineare sempre di tipo credo perché non sono un'esperta di cabala mi sono occupata di cabala soltanto per arrivare a capire che Bruno la rifiuta nettamente tanto che noi troviamo la parola cabala solamente nel più umoristico non certo sarcastico diciamo meglio nel più sarcastico dei suoi dialoghi italiani che è la cabala del cavallo Pegaseo e dell'asino cillenico dove praticamente ci propone questo uomo nuovo come un asino è chiaro perché l'asino è prima di tutto non beve acqua sporca è sincero è naturale e soprattutto non ce lo dimentichiamo fino a qualche generazione fa era l'aiuto in tutte le occorrenze della vita dell'uomo il cavallo può fare poche cose come il bue la vacca eccetera l'asino invece effettivamente era la macchina dei più poveri ma anche l'aiuto in tante attività umane quindi l'asino ha questo aspetto naturale però lui è quello il pedante che parla nella situazione che è praticamente un asino ed è stato anche asino prima ancora di essere asino era Aristotele allora l'asino era qual è il difetto dell'asino perché è forte è obbediente è disponibile ai nostri comandi il difetto dell'asino è che non sa giudicare e questa frase la dice molto bene Bruno dicendo non distingue cardi e lattughe mangia indifferentemente l'uno e l'altra ora se vi ricordate cosa sono i cardi e cosa sono le lattughe vi fate un'idea di come sceglie l'asino il pedante è esattamente così dice Bruno il pedante è uno che in realtà conserva tutto quello che c'è nel passato senza giudicare che ci sono 5 cose utili e 20 da buttare e quindi in sostanza conserva 25 cose ma solo poche cose saranno effettivamente da sviluppare quindi quello che noi dobbiamo riuscire a capire è come insegnare all'asino a giudicare l'asino è stato in certo modo cavallo pegaseo cioè Aristotele questo maestro di color che sanno per mille anni è chiaro? è stato Aristotele e quindi grande cavallo pieno di grande gioia e poi è finito asino sono uno da buttare uno da lasciare no dice Bruno ed è questo il motivo per cui lui rifiuta la cabala in modo esplicito perché lui per esempio parla di quasi numero quasi matematica ora fa un po' ridere la prima volta che lo vedi ci dì di su che vuol dire quasi matematica o è matematico o non lo è o no allora dire quasi numero e quasi matematica e costruire poi una scienza che deve essere soprattutto attenta alla scienza sensibile al dato della sensibilità quindi a quella conoscenza che tutti quanti noi abbiamo ecco porta necessariamente il rifiuto del numero come codice tipo perché perché il numero non parla cioè quando voi dite che io ho intorno 15 cose probabilmente io ce ne ho 30 di cose ora queste 30 cose hanno un valore perché sono 30 ma per me che sto qui in mezzo sicuramente non ha lo stesso valore il computer e un libro per esempio no sono diversi cosa faccio io quando dico che c'è intorno 30 cose dico che annullo la qualità cioè io per fare un numero ma quante sono queste cose 50 100 200 è chiaro in realtà io annullo la qualità quello che oramai noi facciamo abitualmente con le statistiche persino con il gradimento di un programma televisivo che infatti è diventato una questione del 50% 70% 10% è chiaro nessuno non si parla più dei contenuti i contenuti sono l'ultima cosa è chiaro allora rifiutare la cabala per Bruno significa rifiutare la qualità e allora come si fa possiamo passare all'altra slide non so se è possibile vederla un poco più grande perché qui c'è proprio un pezzo di Bruno penso che si legge no? questo è proprio Bruno che parla ed è l'apoteosi del libero pensiero i concetti semplici le sentenze enunciative gli discorsi sillogistici che apporto in favore di questo sacro impolluto santo animale l'asino sono puri veri e dimostrativi oppure sono finti se sono buoni non li schivare non li schivare non le fuggire non li rigettate ma accettatele seguitele abbracciatele e non siate oltre legati dalla consuetudine del credere vinti dalla sofficienza del pensare e dalla vanità del dire se altro vi mostra la luce dell'intelletto altro la voce della dottrina ed altro l'atto dell'esperienza conferma allora più chiaro di questo non il numero non il rifiuto della qualità voi siete capaci di capire la qualità delle cose allora credete a voi stessi lui diceva la voce di Dio parla ogni giorno ed è ogni giorno diversa nella sensazione se io ascolto le sensazioni giuste ce la farò a fare come fa quest'uomo se ne è andata il professore Vino Gabriele però mi pare che questa sia l'ultima delle immagini che ha fatto effettivamente Bruno con le sue mani scavandola sul legno ed è meno brutta di altre che Mino Gabriele rifiuta un po' perché dice sono infantili sono fatte in modo grossolano e così via d'altra parte siamo a 100 anni da Gutenberg insomma tipografi sono tanti ma non c'è ancora questa grande scienza allora se riuscite a leggere questo è il quadrato della speranza Asta che venga Meglior lui è un cittadino spagnolo non ve lo dimenticate è un figlio dell'impero in questo periodo perché Napoli è stata presa da Carlo V allora in pratica Asta che venga Meglior il libero pensiero è la scelta che ci può guidare in ogni tipo di cose allora vedete comparire questo personaggio che è un compagno d'avventura uno che si è trovato in un mondo cambiato da Copernico addirittura la terra non sta più sul suo asse e girare per sé ma invece è lei che gira intorno al sole e lui Bruno ha accettato contrariamente a tanti altri dotti del periodo ha accettato subito Copernico perché come accennava anche Gabriele è l'importante in un filosofo è saper dare una visione del mondo si chiamava metafisica poi la chiesa ne ha fatto una struttura eterna il disegno di Dante ce l'ha figurata e ci siamo abituati a pensare che è il mondo predestinato e l'eterno ma in realtà senza una visione del mondo nessuno di noi sa vivere voi se siete in questo momento online è perché avete bisogno di una visione del mondo è chiaro allora servirsi di questi autori che con la loro enorme capacità di studio Bruno è veramente spaventoso quando non si finisce mai di studiare e di imparare da Bruno io per vent'anni l'ho insegnato all'università Federico II sempre suscitando grande entusiasmo tra i ragazzi e vi dico con vent'anni sono ben lontata all'esaurire gli argomenti che mi interessano allora andiamo avanti cerco di essere un poco più rapida perché vedo che come sempre io sono un poco logorroica allora il per allora abbiamo capito come fare a capire libero pensiero non credere ai falsi maestri non pensare a soluzioni magiche numeriche ecco perché nella cabala lui attacca questo aspetto che è anche della magia deteriore Bruno è sicuramente un mago il mio ultimo libro si chiama Bruno Mago però lui è sicuramente un mago però lui ha nove significati della magia è chiaro di cui l'unico escluso è la magia nera in questa ragione Gabriele però tutti quanti gli altri ci sono e c'è pure l'illusionismo tra questi significati della magia e soprattutto c'è la capacità di connettere i fatti tra di loro e di dare una spiegazione unitaria delle cose ricordando però il detto di Marco Aurelio qui scritto in rosso l'arte del vivere somiglia più all'arte della lotta che a quella della danza ricordando questo detto di Marco Aurelio bisogna concludere che la strada del domani non si costruisce con le sole ruote del sapere queste che vi ho fatto vedere e che le vedete nella mia immagine vabbè ve le ho fatte già vedere prima allora stavo dicendo non si costruisce con le sole ruote come l'urlo perché perché poi passiamo oltre nella nella slide perché bisogna agire è chiaro bisogna anche agire e quindi bisogna passare ad una fase che ci consenta di vedere concretamente le cose l'urlo aveva avviato la strada delle ruote cioè la strada di fare una visione del mondo e aveva scelto questa strada delle ruote girevoli allora Bruno le ha perfezionate appunto rendendole girevoli e quindi rendendo estremamente complicato tutto il percorso Pico invece aveva scelto la strada di rendere cristiana la cabala infatti vi ricordate le 990 tesi che Pico della Mirandola aveva ottenuto di poter discorrere a Roma prima di essere ucciso probabilmente col veleno che erano 30 anni prima di Lutero allora lui aveva tentato di fare questa cristianizzazione della cabala che aveva a dire la verità a molti seguaci Bruno non la scelse mentre sfruttando la notorietà di Pico della Mirandola che aveva scritto anche il De Dignitate Ominis che era stato tradotto da Tommaso Moro in inglese quindi diciamo che gli inglesi conoscevano Pico della Mirandola e probabilmente avrebbero accolto molto meglio il suo la sua presenza e forse gli avrebbero anche dato quel posto che lui voleva ad Oxford mentre invece poi la situazione crollò non si riuscì a far andare avanti il dialogo quindi il rifiuto della cabala è molto serio allora capito che cosa fare bisogna agire ma questo agire guardate a quest'ultima parola che io ho scritto isolata bisogna agire temperando io sto facendo attenzione a questa parola perché nel Cinquecento è anche la parola chiave per esempio della porta anche lui insiste molto su quella la temperanza che forse francamente è una cosa che noi poi fino a un certo punto abbiamo perso tempo su questa parola abbiamo badato più su altre mentre invece oggi con questo clima di guerra risorgente si capisce la necessità della temperanza perché l'alternativa al temperare i propri interessi è la guerra e se passiamo di slide vediamo due aspetti della guerra loro purtroppo sono meno necessari di quella di oggi perché questa è l'epoca in cui nasce il giusnaturalismo quindi non è solo Bruno a fare questa lotta appassionata per la pace passiamo oltre e ci sono queste immagini della notte di San Bartolomeo una e poi due che sono questa soprattutto veramente ti fa entrare diciamo in quello che vuol dire una guerra nelle corti europee ma era una cosa normale il sacco di Roma era stato poco prima la guerra le guerre di religione insanguinavano tutto non soltanto le città le campagne le foreste chiaro allora l'unico modo per evitare queste scene è questo e Bruno quale strada sceglie? ma la strada io direi dice che vara un po' meno 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 turbolento e meno anche inconcludente perché lui va direttamente nelle corti reali visto che è tanto bravo nel parlare nel memorizzare e parla al re di Francia alla regina all'Inghilterra all'imperatore parla a tutti e ottiene di convincerli poco perché chi volete che allora potesse fare la pace di religione non soltanto ma Bruno benché avesse trovato a Tolosa prima e a Wittenberg poi Wittenberg la città di Lutero avesse trovato situazioni di relativa pace e se n'era andato se n'era andato per andare a combattere ancora per la pace da Tolosa va a Parigi poi va a Londra e da Wittenberg dove aveva trovato un poco di pace se ne va addirittura a Venezia per cercare di convincere il Papa sicuramente è un utopista ma è un grande combattente un personaggio che ci fa capire bene quella frase di Marco Aurelio danzare è bello danzare ballare intrattenerci quanto vogliamo però quasi non c'è nessuno che lotta le cose non è che vanno bene e lottare non si dovrebbe come in queste immagini che abbiamo ancora davanti ma in modo molto serio andiamo più avanti temperando io credo che gli intellettuali nel novecento hanno fatto sciopero e questo non andava bene è chiaro oramai appunto la filosofia diceva giustamente di Mino Gabriele ma dove stanno i grandi filosofi intorno a noi cioè quelli che effettivamente ci sanno dire qualcosa quando compaiono fanno il sindaco di Venezia il sindaco di qua il sindaco all'altra parte ci dicono molte cose ma nulla di fruibile effettivamente per le nostre cose allora la macchina del sapere simbolico che poi viene nel decomposizione immagino veramente viene effettivamente trattata in una maniera è lo studio che spero ora di fare quindi non ho ancora raggiunto conclusioni però vorrei dire una cosa che avrei voluto dire anche a Gabriele perché lui praticamente sostiene che la questa forma circolare vi ho fatto vedere queste cose se passate un attimo il mio video avanti ve le faccio vedere perché appunto nel libro di Gabriele c'erano queste questi cerchi vedete ogni cerchio è girevole sugli altri e ora poi ve lo faccio vedere intanto vi sto facendo vedere che girano ecco girano allora girando noi ci troviamo ogni volta davanti lettere e numeri e alfabeti particolari tutte diverse l'una dall'altra come funziona questa macchina funziona come un paroliamo come un un gioco funziona come un gioco ma è un gioco di memoria che consente di creare ogni volta delle vicinanze impensate ecco per esempio non so non penserei anche perché ognuna di queste lettere per esempio nell'arte delle ombre delle idee nelle ombre delle idee nell'arte della memoria comunque che sono il primo scritto di Giordano Bruno giunto a noi naturalmente praticamente noi abbiamo l'elenco ogni lettera c'è scritto a che cosa corrisponde è una codifica anche questa allora quando voi vedete queste cose potete codificare pensate io ho fatto ho badato essenzialmente alle cose che conosco io di più cioè i filosofi ecco anche i filosofi hanno tutti quanti una loro lettera su questa cosa quindi per esempio la ruota girando perché gira a caso vi può mettere insieme Platone e Hegel va bene sa a voi poi che leggete ma questo proprio non c'entra niente oppure sì ma guarda effettivamente per esempio con Aristotele Hegel è stato trovato abbastanza convergente allora il fatto casuale il filosofo però ci va seguendo potete ritornare alle slide il filosofo ci va seguendo una logica lineare le ruote che girano vi portano invece al privilegio della analogia e questa è l'altra parola chiave che vi vorrei lasciare Bruno è autor di un sistema ancor più che simbolico analogico allora il caso che fa girare le ruote vi porta vi stimola la mente a trovare dei raffronti analogici questo è magia trovare dei confronti senza senso magia diceva lui oggi Popper dice ipotesi pur di non passare questa fantasia che avete fatto per verità sic e semplicite è chiaro se riuscite invece a fermarvi e a iniziare uno studio su questa cosa e a vedere se effettivamente è congruo oppure no limitando opportunamente il campo è chiaro voi avete la possibilità di aumentare il vostro sapere ecco questo è un tipo di ragionamento che secondo me oggi va fatto infatti sto lavorando sull'intelligenza artificiale ora proprio perché credo che non è una cosa che possa fare uno studioso c'è bisogno di creare dei convegni dei seminari e vedere se è riproponibile ancora una cosa del genere allora passiamo un attimo alla successiva vi dicevo Mino Gabriele criticava questo sistema delle ruote si fatte che erano diciamo già l'eredità del passato questa a destra è la ruota di Lullo poi tutti quanti facevano ruote troviamo ruote del sapere fatte a tutti quanti e questa qua in particolare a me piace molto perché se vedete queste sembrano le categorie kantiane sembra uno schema categoriale simile a quello che poi con Kant diventerà la base della filosofia moderna allora andiamo oltre andiamo oltre perché oltre a queste forme così fatte Mino Gabriele dice giustamente in un secondo momento lui non fa più circoli fa quadrati allora anche questo c'è molto queste le immagini a destra e a sinistra non sono di Bruno e questa qua addirittura è Cesare Ripa insomma cioè voglio dire dei grandissimi repertori d'immagine di cui il 500 è abbastanza ricco al centro c'è l'immagine di Bruno al centro c'è questa immagine che lui ha creato proprio graffiando da solo il legno del tipografo e lui Mino Gabriele la criticava dicendo fa una serie di disegni di fiorellini le cose e dice probabilmente questi sono dei simboli dei momenti che legano tra le cose tra l'altro questa è una mandola lui non dimentica mai la campania da cui viene quindi è probabile che questo fosse anche uno strumento che gli ricordava anche la gioventù allora io a dirvi la verità dopo aver studiato per tanti anni Bruno ho fatto una serie di tentativi di avvicinamento non soltanto al discorso delle immagini che ho capito subito venendo dall'estetica sono importantissime perché la struttura rettangolare non ce lo dimentichiamo è quella dei quadri è chiaro cioè ognuno può fare un quadro sicuramente ne abbiamo fatto qualcuno allora questi quadri sono effettivamente salvano la memoria meglio del tondo è chiaro non a caso i pittori ci sono i tondi ma sono pochi più che altro fanno quadrato perché è effettivamente una figura meglio strutturabile poi però sono passata anche a capire perché lui Bruno insiste molto la mente e la mano devono stare insieme la mente e la mano sono un sol percorso e infatti nel novecento ci sono due filosofi che io amo molto che sono Arnheim e l'altra nell'ottocento Ruskin che hanno tutti e due parlato di pensiero visuale è un altro modo di pensare è un'altra lingua si svolge per analogia cioè per un sapere circolare e non lineare allora e quindi ho provato anche a disegnare e mi sono accorto che la prima cosa che viene da fare a chi non sa disegnare a chi non ha scuola non ha metodo è proprio quello di fare fiorellini di mettere dei segnetti insomma ingenuamente per abbellire si cerca questo sistema che spesso non abbellisce affatto e la linea si impara si impara dopo a tracciare linee e la prima reazione è questa quindi è probabile che Bruno appena cominciando ho quasi finito quindi passiamo un attimo all'altra slide perché in queste due ultime slide penso di avervi chiarito l'ottica che secondo me bisogna guardare in Bruno questa è una immagine di Meliè anche questa vedete com'è brutta è chiaro Meliè questa luna l'avrete sicuramente vista tante volte è il primo operatore dei Lumiere ma è anche lui un illusionista è chiaro e l'illusionismo è una delle caratteristiche di cui si serve il pensiero magico per combinare tra le sensazioni e svilupparle tra di loro analogicamente passiamo oltre per creare quelli che sono i miti d'oggi in cui si scrive la nuova lingua il camminare che è uno dei percorsi dell'oggi molto importanti Forrest Gump e Giacometti lo hanno descritto in modo molto diverso però tutti e due in un modo molto efficace con un simbolo che resta impresso non bisogna incominciare a creare i miti i miti ci sono già perché l'uomo non vive senza miti quindi stanno nascendo questi nuovi miti però se facciamo attenzione al fatto che sono nuovi miti saremo un po' meno leggeri nell'affrontare quello che sono i problemi che danno le tecnologie di oggi con questa rapida trasposizione di immagini che però ha dei pericoli e soprattutto cambia il modo di pensare del pensiero visuale che dicevo tanto che sono nate le neuroscienze però le neuroscienze essendo solo numeriche scientifiche come dicevamo hanno bisogno di un dialogo sempre con l'altra parte con la filosofia che invece purtroppo è alquanto scomparsa vogliamo passare oltre quindi il quadrato che si imprime come un marchio prima vi ho dato la definizione del libero arbitrio ora ve lo ricordo perché questo sapere che viene così descritto è il sapere della speranza l'uomo nudo davanti al pozzo del sapere tra i segni zodiacali quindi nel mondo ha la possibilità di ricavare sempre il suo sapere e di rinnovarlo ma appunto non deve aspettare e danzare ma invece continuare a lottare andiamo ancora vi faccio vedere il suggerimento più reale vi segnalo due autori e il concetto base io credo che si possa parlare della magia di Bruno come di un umanismo scientifico ma quando mai i filosofi non si sono occupati di scienza quando mai e come fa un uomo qualsiasi oggi a non occuparsi di scienza quando non c'è più niente che lo consenta è chiaro basta guardare la televisione ci squadernano davanti il mondo la geografia del mondo intero è davanti a noi e non solo la geografia è chiaro allora tutti ci interessiamo di scienza l'importante è che ci sia sempre anche l'umanismo a rispondere Latour che è morto due mesi fa è stato pertanto era un epistemologo simbolista ma anche allievo di Bachelard per chi se lo ricorda Bachelard insomma dice tutto sulle fondamenti di uno scienziato che è il suo allievo allora l'umanismo scientifico è la proposta di un atteggiamento equilibrato tra scienze umane e intelligenza artificiale è più che scienze umane la filosofia perché la scienza umana per eccellenza per arrivare a che cosa? A questo cogitamus da sostituire al cogitamus questa è la sua proposta io ho trovata molto simpatica questo libro che si chiama cogitamus che è in libreria è un libro che dà il suo esempio che è diciamo l'esempio di qualsiasi seminario ben fatto cioè un seminario ben fatto però naturalmente si ragiona sulla necessità di evitare questo mondo della velocità a tutto spiano per riprendere un po' di più la calma e poi l'ultimo suggerimento sempre che in effetti concludo questo fanno i dialoghi di Bruno creano un umanismo scientifico perché i dialoghi sono pieni di tutta la metafisica e di tutta la scienza di Bruno i vi compreso è naturalmente Copernico e quindi una nuova cosmologia allora dicevo prima vi ho citato questo libro vedete in rosso l'avevo citato già all'inizio di fronte all'obiezione appunto giusta che non è soltanto una questione di linguaggio però noi nel linguaggio abbiamo l'arma perché io parlo tanto di linguaggio perché combattere il capitalismo culturale non è una cosa tanto facile bisogna sapere da dove sparare ecco io credo che le analisi del linguaggio sulle parole che hanno cambiato molto il loro senso e per esempio il linguaggio come metodo la scuola la formazione questi percorsi abituali che però tengano presente la situazione in cui siamo perché denuncia Stiegler in pratica questo capitalismo questo capitalismo culturale che cosa ha fatto ha creato quella sindrome che non conosce più ideologia cioè è di tutti capitalismo consumismo consumismo capitalismo attraverso i media dice Stiegler si è creata la miseria del simbolico cioè un uomo singolo non può desiderare tutto quello che vede attraverso televisione cinema internet e così via non c'è più una realtà che si possa contrappurre i miei desideri saranno sempre ridicoli rispetto a questi bellissimi mostri e a tantissime cose che io vedo allora si è creato un noi che non sa più chi è noi chi siamo noi una volta era chiarissimo noi il mio paesello d'origine infatti nei paeselli quando voi ci andate vedete che la struttura del noi è ancora molto compatta è chiaro ho finito sì no ho finito vi volevo soltanto dire questa cosa della miseria del simbolico sono dei libri che ho letto con molto piacere quindi ve li raccomando io la ringrazio e la ringrazio non solo per il suo intervento anche per i consigli bibliografici e anche per la prospettiva nei rapporti con col mondo contemporaneo che condividiamo proprio dal punto di vista della visione del mondo no è un cavallo di battaglia di di pagine filosofale quindi lei anche come dire lo ha capito naturalmente e quindi credo che chi ci sta ascoltando ha apprezzato due volte il suo intervento quindi grazie di cuore tanto credo che ci ritroveremo presto per la comune collaborazione con con la stamperia del Valentino e quindi spero di riaverla qui ma io resto con voi ora grazie non ho particolari urgenze Rosanna grazie professoressa Clementina Gili Reda passiamo la parola ad Alessandro Orlandi buonasera premetto che ringrazio il mio amico Eugenio Viola per avermi dato alcune delle preziosi informazioni che costituiranno il mio intervento di stasera stasera parlerò della storia che nonostante si svolga alcuni secoli dopo la morte di Giordano Bruno racconta molto su Giordano Bruno del momento che gli è stato indicato al centro di Roma al centro della piazza Campo dei Fiori e che è stato eletto come forse molti sanno il 9 giugno del 1889 quello che vedete adesso nell'immagine ha una storia che racconta anche il braccio di ferro tra il pensiero laico e il pensiero clericale la prima proposta di erigere un monumento dedicato a Giordano Bruno venne fatta da un comitato di studenti che lanciò universitari che lanciò un appello internazionale per la raccolta di fondi nel 1876 i fondi raccolti per la verità non furono molti ma nel 1878 vennero presentati al comune di Roma quattro bozzetti per l'elezione del monumento questi quattro bozzetti si ispiravano tutti al fatto forse non tutti sanno che c'è stato un testimone oculare nel 1600 il 17 febbraio del 1600 del robo di Giordano Bruno che ha fatto un bozzetto di Giordano Bruno mentre aspettava che accendessero il robo e da questo bozzetto si evince che lui indossava una tunica e che aveva le braccia legate dietro la schiena e che aveva il volto incorniciato da una barba questo bozzetto è ancora visibile è ancora disponibile non so se è tra le immagini che ha raccolto Luca comunque da questo bozzetto appena accennato si evincono queste cose questa proposta fu bocciata in quanto antireligiosa gravemente offensiva per la religione dovete pensare che nel 1878 quando vennero presentati questi progetti il comune di Roma era maggioranza clericale e negli anni successivi ci fu un francese un profugo della comune di Parigi che aveva fatto del monumento a Bruno il suo scopo di vita che continuò adottare moltissimo perché il monumento fosse edificato nel 1884 si fermò un secondo comitato di studenti che questa volta intercettò l'attenzione internazionale e i fondi necessari e iniziò questa lotta che in tutto da quando nacque il primo comitato è durata 13 anni e che culminò nell'erezione del monumento Garibaldi si era rivolto all'inizio nel 1876 al comitato promotore con queste parole possa il monumento da voi eretto il grande pensatore e martire essere il colpo di grazia la baracca di codesti pagliacci che villeggiano sulle sponde del petevere e si riferiva naturalmente alle resistenze clericali questo secondo comitato affidò ad Ettore Ferrari che accettò gratuitamente il compito di progettare il monumento Ettore Ferrari era uno scultore un professore dell'istituto di Belle Arti ed è stato anche deputato del Regno d'Italia per vari anni e poi molto più tardi tra il 1904 e il 1917 gran maestro della massoneria italiana una storia come dicevo molto travagliata perché la prima battaglia riguardò la concessione dell'area si pensava inizialmente di farlo esattamente dove ci fu il rogo dove Giordano Bruno venne bruciato a Campo dei Fiori e cambiò tre volte destinazione sempre bocciata dal comune di Roma la prima serie a Via dei Baulari la seconda a Via dei Zubonari la terza alla fine in mezzo alla piazza fin quando non ci furono delle nuove elezioni municipali l'ultima volta nel maggio 1888 il monumento venne l'idea del monumento venne bocciata dal comune di Roma che aveva ancora una maggioranza clericale poi finalmente nel dicembre del 1888 ci furono da una parte nuove elezioni municipali dall'altra divenne presidente del consiglio Francesco Crispi e quindi la proposta passò perché il comune di Roma era diventata maggioranza liberale e quindi i clericali vennero sconfitti vennero sconfitti e del comitato d'onore per erigere questo monumento fecero parte personaggi da tutto il mondo molto importanti come per esempio Victor Hugo Nicail Bakunin il drammaturgo Andy Gibson l'altro drammaturgo Algernon Swingham il filosofo Herbert Spencer il poeta e scrittore Walt Whitman lo scienziato Ernest Echel e per l'Italia c'erano Giovanni Bobio che poi fu l'autore della scritta che compare nella parte anteriore del monumento il poeta Giuseppe Arducci il filosofo Ardigò l'antropologo e criminologo Lombroso e lo storico Pasquale Villari la chiesa romana come dicevo tentò in ogni modo di ostacolare l'elezione del monumento e il papa Leone XIII a proposito delle celebrazioni che precedettero e seguirono l'elezione del monumento disse che queste celebrazioni sono incoraggiate e favorite dagli stessi uomini di governo non ad altro ordinate che a insultare sotto i nostri occhi la chiesa ad esaltare l'odio più satanico contro la divina istituzione del papato questo è il clima in cui venne eretto il monumento e in effetti quando il monumento venne eretto fu un grande successo di popolo intervennero quasi 20.000 persone ma alcuni alcuni cardinali importanti fecero di tutto per impedire che queste 20.000 persone arrivassero fino al monumento per acclamare la sua elezione arrivarono ad offrire biglietti di treno gratis per allontanare le persone da Roma ma fortunatamente non ci riuscirono e questa fu una vittoria laica ma entriamo un pochino più in dettaglio su come era costituito questo monumento perché il primo bozzetto di Ettore Ferrari venne bocciato lo rappresentava in atteggiamento oratorio con un braccio alzato invece Ettore Ferrari adeguò il progetto alle resistenze che c'erano e quindi immaginò un Bruno assorto con le braccia concerte come lo vedete nell'immagine che prima vi ha proposto Luca Valentini che sorreggono a sorreggere un libro il piede destro proteso in avanti a dare un'idea di movimento e lo sguardo rivolto verso il Vaticano ma nel basamento subito sotto l'immagine che vedete ci sono altri personaggi che danno il senso complessivo del monumento vedremo le conclusioni alla fine sul lato nord ci sono i critici della chiesa prima della riforma ci sono John Wycliffe e Jan Hus Wycliffe vissuto nel XIV secolo era un inglese anticipatore della riforma protestante i cui scritti vennero bruciati e che venne condannato al rogo dal concilio di Costanza 50 anni dopo la sua morte quindi venne esumato e i suoi resti vennero bruciati pensate che livello di fanatismo religioso ci poteva essere mentre Jan Hus sempre avvissuto a cavallo tra il XIV e il XV secolo era un teologo boemo che si batte contro la corruzione del clero fu anche il fondatore di un movimento che porta il suo nome e si batteva per la povertà della chiesa e anche pensate l'eresia per la libertà di celebrare la messa ognuno nel suo linguaggio quindi italiano in italiano come si fa adesso però allora era considerato una terribile eresia e quindi fu condannato a rogo e morì come Bruno sopra questi due personaggi c'è una formella che rappresenta Giordano Bruno sul rogo che si ispira al disegno di quel notaio che assiste a Angeli che assiste a rogo nel lato est invece ci sono Antonio Paleario e Michele Serveto Antonio Paleario è un umanista un riformatore che trattò dell'immortalità dell'anima della corruzione della chiesa e si battè per le riforme per eliminare questi mali venne impiccato e poi bruciato dal braccio secolare della chiesa mentre Michele Serveto vissuto nel XVI secolo era un teologo umanista spagnolo che fu condannato a rogo a Ginebra dai calvinisti in particolare lo stesso Calvino si battè per decapitarlo lui personalmente però non la spuntò e quindi venne arso sul rogo pensate la scelta di questo personaggio serviva anche a non fare della chiesa cattolica il solo bersaglio del significato generale di questo monumento ma l'intolleranza religiosa e la lotta per il libero pensiero in generale sopra questi due personaggi c'è una formella con Giordano Bruno che sta per essere condotto davanti al Sant'Utizio per subire il processo nel lato sud invece ci sono personaggi che condivisero le critiche del protestantesimo contro la chiesa di Roma Erasmo da Rotterdam che non ha bisogno di presentazioni autore dell'elogio della follia i cui libri furono bruciati a Milano e Giulio Cesare Vanini che fu un erudito antipapista divenuto anglicano in Inghilterra e poi ebbe una vita piena di peripezie e finì la sua vita a Tolosa in Francia tra l'altro non era stato nemmeno riconosciuto ma per le sue affermazioni venne gli venne tagliata la lingua fu strangolato e poi arso sul ruolo il ritratto di Vanini contiene una sorpresa una figura molto più piccola che non era stata riconosciuta da nessuno fino al 1991 quando lo storico svedese Lars Beggren si accorse che si trattava di Martin Lutero quindi c'è un piccolo ritratto di Lutero nascosto nel ritratto di Vanini sopra questi due personaggi sopra Erasmo da Rotterdam e Vanini c'è un'altra formella con Giordano Bruno che dibatte che insegna a Oxford in Italia infine sul lato ovest ci sono i sostenitori di una chiesa libertaria cioè Tommaso Campanella e Paolo Sarti di cose Tommaso Campanella come Erasmo da Rotterdam non ha bisogno di presentazioni autore della città del sole si battè per una società ugualitaria e una chiesa libertaria fu torturato e poi messo in prigione per 27 anni e invece Paolo Sarti vissuto tra il 1552 e il 1623 è un teologo scienziato e storico che difendette Venezia dalle ingerenze della chiesa e apparteneva all'ordine dei serbi di Maria subì numerosi attentati dalla sua vita da sicari spediti dalla chiesa di Roma e vari processi sopra questi due personaggi c'è la scritta che figura sul basamento ideata da Giovanni Bovio che dice a Bruno il secolo da lui divinato qui dove il rogo arse come risposta all'elevazione del monumento a Bruno la chiesa la chiesa immediatamente proclamò santo il suo inquisitore giudice cardinal Bellarmino e organizzò veglia per riparare all'elezione del monumento che fu conosciuto dai clericali come monumento infame mentre la piazza del campo dei fiori prese in nome di campo maledetto nel campo opposto lo devo dire per onestà intellettuale anarchici e socialisti esagerarono e travisarono alcune idee di Bruno trasformandolo in le visti viste che era tutt'altro che queste cose qui le opposizioni al monumento non finirono con la sua erezione dopo la firma del concordato del 1929 si levarono numerose voci clericali alla camera dei deputati che reclamavano la rimozione della distruzione del monumento e Mussolini fortunatamente nel partito fascista c'erano anche delle voci laiche Mussolini replicò con queste parole che se la statua di Giordano Bruno malinconica come il destino di questo frate resterà dov'è il filosofo Giovanni Gentile invece si adoperò per rivalutare Giordano Bruno tanto che riuscì a farlo inserire nell'insegnamento della filosofia dopo la riforma del 1923 ma ancora nel 1940 padre Agostino Gemelli diceva che il processo a Galileo fu un errore ma il processo a Bruno fu ineccepibile e giusto e anche il Papa Pio XII fece pressione perché il monumento a Giordano Bruno fosse rimosso citerò anche dei versi del poeta Trilussa dedicati a Giordano Bruno che dice fece la fine della bacchia al forno perché credette al libero pensiero dico ancora due brevissime cose sull'arte della memoria molto interessanti gli interventi di chi è intervenuto prima di me come diceva l'amico Mino non è che Giordano Bruno sia scaturito dal nulla lui ha citato Raimondo Lullo e ha citato il Polifilo di Francesco Colonna io vorrei citare un personaggio fondamentale meno conosciuto dei personaggi di cui abbiamo parlato pur qui che è Giulio Camillo del Minio autore dell'idea del teatro il quale aveva ideato un lui ha vissuto più o meno tra il 1480 e il 1544 quindi è molto probabile che Bruno abbia conosciuto la sua opera e il suo pensiero lui aveva ideato un teatro ligno che era un antesegnano un precursore delle nostre enciclopedie era inteso sia per contenere mnemonicamente tutto il sapere universale che per essere uno strumento per risalire dal sensibile all'ultrasensibile era concepito con sette gradoni e ogni gradone era a sua volta diviso in sette parti i 49 settori così ottenuti erano presidiati ciascuno da una divinità mitologica e queste divinità mitologiche e questa divisione del teatro doveva servire a immagazzinare il teatro doveva essere naturalmente introiettato dal teatro ligno si doveva passare a un teatro interiore doveva servire a immagazzinare il sapere universale e poi a riferire il mondo sensibile al mondo oltrasensibile la seconda cosa e ho finito che volevo dire riguarda le origini più lontane dell'arte della memoria secondo una mitologia che si tramandava nel mondo antico che viene anche ripresa da Cicerone nel Deoratore si raccontava nel mondo antico che l'arte della memoria fu ideata nel VI secolo a.C. da un greco che si chiamava Simoni de Diceo accadde che il re di Pessaglia Scopas gli affidasse un inno dedicato agli osculi Castore e Polluce questo Simoni de Diceo si presentò a un banchetto nel palazzo del re e declamò questo inno agli osculi e il re lo rimproverò che l'inno era stato troppo lungo e che Simoni de Diceo era stato un oborroico e disse io ti pago solo la metà l'altra metà fatela pagare da Castore e Polluce in quel momento qualcuno chiamò Simoni de Diceo fuori dal palazzo e gli disse che due giovani presumibilmente nel mito Castore e Polluce lo stavano aspettando appena uscì dal palazzo il palazzo crollò travolgendo il re Scopas e tutti i partecipanti al banchetto quando le macerie vennero rimosse nessuno non era più riconoscibile e allora Simoni de Diceo dette prova della sua straordinaria abilità dando un nome a ciascuna delle persone travolte dal crollo sulla base del fatto che la posizione occupata nel banchetto era stata da lui perfettamente memorizzata nonostante quelle persone fossero tantissime e quindi si ricordava perfettamente data la posizione identità di quelle persone che erano state così riconosciute così questo è diciamo l'episodio fondante che ha a che fare con gli oscuri gemelli cartole poluce dell'arte della memoria ho concluso il mio intervento e vi ringrazio grazie grazie Alessandro di di averci fornito informazioni anche storiche magari poco conosciute a te Rosandro grazie Alessandro Orlandi adesso passiamo la parola a Sigfrido Obel buonasera Sigfrido buonasera a tutti cari amici dovevo riattivare la voce guarda ti faccio una domanda al volo tanto i nostri utenti ti conoscono benissimo sia per dirette fatte anche con retticamente sia per la conferenza abbiamo fatto a ottobre sull'alchimia soprattutto conoscono i tuoi studi nell'ambito della tradizione esoterica napoletana sulla cappa di San Severo e sulla tradizione egizia ed ermetica tu questa sera ci parlerai del mito di 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 attione che si ritrova nei riusci furori di Bruno è un volersi ricollegare a quel filone della tradizione antica presente nella città di Napoli anche questo è un voler riaffermare una sapienza che anche un milo Gabriele ci ha accennato Bruno non rielabora non espone niente di nuovo ma appunto in un processo tradizionale ci sono delle idee eterne che si rimanifestano in maniera ciclica a te Sigfrido e grazie di esserci grazie a te Luca in tutto questo poi vabbè nel corso della ghiacchierata noterete che c'è un riferimento preciso se non proprio a Napoli però a Nola sì e poi volevo dire anche una cosa dal discorso anche di Orlandi sulle vicissitudini del monumento di Bruno cioè si capisce e sulla resistenza anche della Chiesa a rivedere le sue posizioni rispetto a questo grande grandissimo pensatore il fatto che veramente Bruno fosse estremamente pericoloso cioè Bruno non era solo un pensatore era anche il promotore di una di una riforma di una riforma generale della società quello che lui delinea molto bene nello spaccio della pessia prionfante è un discorso che poi viene ripreso nell'ambito rosacrociano e successivamente darà vita a tutta un'evoluzione del pensiero fino ad arrivare poi in effetti dal passaggio dall'alchimia alla chimica diciamo alla scienza alla scienza moderna e il discorso che voglio fare sugli eroici fururi è quello di una vera e propria metodologia sentivo anche il discorso di Mino Gabriele prima che diceva Bruno assolutamente non era un alchimista senz'altro non era non è difficile immaginare Bruno vicino ai fornelli alle storte agli alambicchi però Bruno ben conosceva il linguaggio alchemico ben conosceva l'alchimia come metodo come metodo di pensiero come sistema mentale e questo risulta molto chiaramente infatti è quello che volevo anche mettere in evidenza in questa parlata sugli eroici furori gli eroici furori come ben si sa diciamo fanno parte dei sei dialoghi in italiano in volgare in cui Bruno illustra in modo esauriente chiaro è anche molto più accessibile rispetto ad altri iscritti il suo pensiero e si distinguono i dialoghi metafisici la scena delle ceneri della causa principietune dell'universo dell'infinito universo e due mondi che saranno i cui diciamo che riguardano una situazione cosmologica che verranno poi sviluppati soprattutto nelle opere latine poi pubblicate a Francoforte mentre invece nei dialoghi morali spaccio della bestia trionfante cabala del cavallo pegaseo di cui ha parlato la dottoressa Gilli e gli eroici furori in particolare invece viene esposto una visione filosofica e la posizione contro ogni forma di dogmatismo ma anche soprattutto dei metodi che possiamo definire senz'altro dei metodi iniziatici cioè soprattutto negli eroici furori proprio il concetto di eroico furore è la chiave di volta di una vera e propria via iniziatica in cui il furore è un metodo è una tecnica operativa così come l'amore eroico di cui si parla rappresenta la tendenza dell'intelletto verso il suo muo bene e la verità assoluta ora il termine furore che era ampiamente adoperato rappresenta uno stato d'animo fortemente concitato che è proprio di una persona fuori di sé e esempi noi ne abbiamo come quello delle menadi presi dal furore dionisiaco oppure nei guerrieri belva degli antichi germani in preda alla putto furore guerriero che erano invasati dalla loro divinità cioè da Odino e si trasformavano psicologicamente o effettivamente secondo alcuni in belve cioè in orsi e in lupi Marsiglio Ficino parla proprio di quattro gradi di furore come i gradi dell'ascesa dell'anima verso l'uno e distingue il furore poetico che proviene dalle muse il furore religioso quello delle menadi praticamente che si collega a Dioniso e all'estasi diciamo all'ebbrezza all'estasi provocata dal vino il furore profetico che dipende da Apollo quello della Sibilla praticamente e infine il furore amoroso che è il più alto grado di aspirazione che va sotto il dominio di Venere e qui chi è venuto a Padula si ricorderanno le tre figure archetipali tra cui particolarmente importante era la figura Moris o Atrium Veneris cioè praticamente questa figura quadrangolare con una griglia sopra che rappresenta e in cui tra l'altro si trovano le lettere che compongono la parola magic che rappresenta praticamente la più alta forma di via diciamo la via più diretta per la realizzazione per la realizzazione spirituale per la presa di coscienza e Bruno distingue anche due specie di furore il furore passivo che direva da una possessione deriva da una possessione come quello appunto Dionisiaco quello appollineo mentre invece il secondo è legato alla cogitativa facoltà ed è proprio degli uomini avvezziabili alla contemplazione e poi Bruno dice che i furori di cui lui ragiona e questa è molto importante non sono oblio ma una memoria non sono negligenze di se stesso ma amori e brane del bello e del buono con cui si procura farsi perfetto con trasformarsi e assomigliarsi a quello cioè l'eroico furore viene suscitato dall'amore verso la divinità la giustizia la verità e la gloria accendendo il lume razionale e qua adesso usa una formula alchemica cioè nel solfro cioè nello zolfo della cogitativa facoltà esaltando la potenza dell'aspetto divino dell'uomo stesso cioè e qui Bruno mostra la sua di mestichezza con la terminologia alchemica citando lo zolfo ma soprattutto mette lo zolfo cioè la parte ignea la parte la componente maschile no? zolfo mercurio e sale diciamo i tre principi dell'alchimia lo zolfo rappresenta il principio igno e maschile e viene messo in rapporto alla cogitativa facoltà cioè alla possibilità di cogitare di concentrarsi di riflettere in maniera profonda e decisa e il furore eroico realizza quindi la metamorfosi della sua anima in un modo attivo si innalza alla divinità con le ali dell'intelletto e della volontà intellettiva e gli viene dato il nome eroe perché? perché come dice Cesare della Rilera è quello che maggiormente conviene al mago naturale come a lui proprio più significativo e più misterioso e nello stesso senso la letteratura alchemica definisce eroe l'operatore ermetico e questo poi vale anche nell'iniziazione massonica in cui il lavoro iniziale viene paragonato alle catiche di Ercole tutti gli amori eroici dice ancora Bruno hanno per oggetto la divinità e tendono la divina bellezza pertanto l'amore è la concentrazione e l'orientamento del pensiero necessari alla realizzazione spirituale cioè la cognitativa la capacità di concentrarsi l'amore del furioso eroico come il fuoco e qua abbiamo di nuovo una formulazione di tipo alchemico come il fuoco converte la cosa amata nell'amante si effettua in tal modo la trasmutazione dell'animo trasmutazione dell'animo che grazie al calore acceso dal sole intelligenziale si purifica e si libera dalla ruggine delle umane cure diventando oro probato e puro questo è estremamente interessante perché praticamente ci pone un un parallelo molto evidente fra operazioni di natura mentale e operazioni alchemiche e qui va fatta una breve parentesi cioè sbaglia chi ritiene che l'alchimia sia solamente l'arte e la grande opera fatta vicino ai fornetti cioè va intesa anche metaforicamente in quanto praticamente l'alchimia è soprattutto un metodo un metodo di pensiero una metodologia per affinare la propria mente portarla a trasformare diciamo il pensiero da mercurio volatile a oro fisso e tra l'altro con potere di diciamo il potere attribuito alla pietra filosofale di trasmutare gli altri quindi qua assume anche una valenza che potremmo dire di natura politica e sociale quindi l'alchimia va ben al di là diciamo di quella che è la pratica spaginica la pratica di laboratorio a cui pure si dedicava che era molto popolare all'epoca di Bruno ma anche considerata con una certa sufficienza per quanto riguardava gli aspetti pratici fatti da persone che poi non fossero in realtà dei filosofi ma solamente dei soffiatori degli sperimentatori con le materie i gradi di perfezione attraverso i quali si giunge a quel centro infinito anche qui è bello perché è paradossale il centro infinito il quale non è formato né forma e quindi questi gradi della perfezione che sono i gradi della contemplazione sono come i gradi della luce per cui dalle tenebre si giunge alla luce solare attraversando i diversi colori anche qui noi abbiamo il parallelo con l'operazione alchemica quindi con il passare diciamo la la partenza dall'opera al nero cioè dalle tenebre quindi al al passaggio attraverso i vari colori i colori diciamo della che appaiono durante la fase di cottura fino a giungere alla luce solare quindi alla realizzazione spirituale questi gradi della perfezione partono dalla percezione sensoriale poi arrivano all'immaginazione immaginazione non è solo la fantasia l'immaginazione è la capacità di creare immagini mentali cioè e questo poi si lega all'art della memoria cioè noi dobbiamo essere capaci di evocare delle immagini noi stessi quindi anche se non abbiamo il disegno davanti a noi dobbiamo saperlo costruire mentalmente abbiamo poi la ragione cioè la capacità di ragionare di creare i nessi di vedere le analogie quindi diciamo di speculare di indagare su ciò che abbiamo immaginato e su ciò che abbiamo percepito abbiamo poi l'intelletto che invece la capacità di cogliere dei nessi più precisi e infine la mente o intelletto superiore la figura mentis delle tre figure archetipali che è l'anima che tutta si converte in dio e abita il mondo intellettibile quindi dove indica proprio la trasmutazione avvenuta nel mondo e questo processo poi richiede tre preparazioni anche queste sono paragonabili ai tre gradi iniziatici comunemente adottati in cui l'attenzione deve essere prima distolta dalle cose inferiori poi applicate applicate alle specie superiori quindi al rapporto analogico tra ciò che è in alto e ciò che è in basso per giungere infine a cattivare tutta la volontà ed affetto a Dio ovviamente questa non è una formulazione di carattere religioso quando si parla di Dio cioè il Dio per Bruno è la luce dell'intelletto cioè la divinità interiore il fuoco che l'uomo accede in sé e gli eroici furori sono pertanto un'opera dedicata in modo evidente all'esperienza iniziatica i suoi principi e i suoi metodi e come fa Bruno a diciamo a esporre questa sua visione ovviamente lo fa in un modo estremamente efficace ed è un testo in cui si alternano a parte le parti discorsive si alternano poi dei sonetti e contemporaneamente degli emblemi ovvero delle immagini simboliche che però non sono in quest'opera in particolare rappresentate graficamente sono però descritte e sono accompagnate da detti esplicativi per cui anche se non abbiamo la realizzazione grafica noi possiamo veramente ritenere che gli eroici furori siano un vero e proprio libro di emblemi l'emblema era una forma diciamo simbolica molto in voga nel rinascimento e si trattava di una immagine accompagnata in genere da una scritta da un epigramma da una breve diciamo anima si chiamava il corpo era l'immagine l'anima era una breve frase che dava un significato che sottolineava il significato dell'immagine ora il tema centrale degli eroici furori è il mito simboleggiato dal mito di Ateone questo lo conoscete tutti sicuramente il cacciatore che sorprende Diana mentre si insegue un cervo si imbatte in una in uno stagno in una sorgente nelle cui acque si sta bagnando Diana la quale ovviamente irritata da questa violazione della sua intimità lo trasforma in cervo e a questo punto Ateone diventa preda dei suoi stessi cani in un'altra opera nello spaccio della bestia trionfante Bruno assimila i sacerdoti della dea cioè di Diana al mitico cacciatore infatti dice così sovente accade che mentre questi Ateoni vanno perseguitando gli cervi del deserto venono dalla loro Diana ad essere convertiti in cervio domestico cioè in questo caso gli va meglio perché non vengono sbranati dai cani ma vengono addomesticati questi Ateoni questi cacciatori presi dall'impeto di inseguire le idee che sono l'oggetto della loro caccia una cosa carina le formule magiche la formula magica che pronuncia Diana per operare la trasformazione di Ateone che prima gli soffia sul viso poi gli getta addosso l'acqua della fonte e poi praticamente noi ritroviamo proprio le cadenze degli incantamenti della magia popolare e che rivelano però anche proprio il senso profondo di questa metamorfosi lasciaste la tua stanza e la bestia seguitaste con tanta diligenza addietro gli corresti che medesimo in sostanza compagna te gli festi amen e il cacciatore Ateone poi precisa ancora Bruno rappresenta l'intelletto intento alla caccia della divina sapienza alla apprensione della beltà divina i suoi cani rappresentano i suoi pensieri e qua distingue i veltri i veloci veltri sono gli atti dell'intelletto mentre i più lenti ma più forti massimi rappresentano la volontà possiamo anche vedere due forme di pensiero cioè il veltro e il pensiero veloce il pensiero rapido il pensiero mercuriale che praticamente si muove in maniera veloce e deve stanare la sua preda praticamente intuire dove c'è la preda da cacciare mentre invece i mastini sono animali da prese rappresentano la volontà ma rappresentano anche la capacità di schizzazione cioè sono loro che bloccano che bloccano il cerbo il quale a sua volta rappresenta le specie intellegibili dei concetti ideali praticamente occulte ai più precisa precisa Bruno cioè praticamente rappresentano questi arcani queste idee ricordiamo il Deumbris Idearum eccetera quindi ciò che l'intelletto può cogliere ma che non è un dato dell'esperienza immediata poi l'apparizione viviana si bagna nelle acque queste acque è bello perché sono definite specchio delle similitudini indica la fase anche qui troviamo un rapporto con l'alchimia indica la fase della grande opera detta Albedo cioè l'apparizione del bianco quando dopo le tenebre dell'opera al nero inizia ad apparire l'argentio chiarore lunare e quindi segno che è avvenuta la purificazione della materia filosofale questo che cosa significa? Praticamente la materia su cui si opera che possiamo anche ritenere che sia una materia mentale è stata liberata dalle ruggini come abbiamo detto prima cioè dagli elementi superflui e praticamente noi arriviamo alla chiarezza cioè riusciamo a riflettere perché poi praticamente la figura di Diana e dell'Albedo si collega allo specchio si collega al bianco si collega alla sfera lunare quindi alla sfera del pensiero riusciamo a speculare e a riflettere sull'oggetto della nostra ricerca poi Ateone che viene trasformato in Cervos che significa che da cacciatore diventa preda quindi il fine ultimo della caccia e della ricerca è che il predatore divenga preda il cacciatore divenga caccia i cani divorano che sono i pensieri delle cose divine divorano Ateone e lo liberano dal carcere della materia l'operazione dell'intelletto con cui converte le cose apprese in sé questo è il senso del tutto cioè il ricercatore si identifica con l'oggetto della sua ricerca e questo fa pensare pure alle pratiche zen il tiro con l'arco e cose di questo genere cioè essere l'entrare profondamente nell'oggetto diciamo del proprio studio della propria ricerca che sia spirituale o intellettuale e il cervo poi diciamo rappresenta un simbolo adottato anche in altri casi è un emblema dell'anima nella versione cristiana è l'emblema dell'anima che c'entra disfugita le tentazioni rappresentate dai cani nella leggenda di sante ostacchio invece il cervo inseguito si identifica con Cristo e qua troviamo un'analogia con il ragionamento di Bruno cioè il cacciatore ostacchio che inseguiva questo cervo il cervo poi gli si manifesta come Cristo e quindi avviene questa identificazione che in questo caso è la conversione del cacciatore nella figura del Cristo però anche in alchimia il cervo che fugge è il simbolo del mercurio filosofico infatti si dice cervus id est mercurius e c'è un'identità fra il cervus pugitivus e il cervus pugitivus che sono entrambi simbolo del mercurio e che cosa significa? Significa che l'aspetto volatile è sfuggente del pensiero superficiale infatti poi c'è un bel disegno nel libro di Flamette in cui Saturno la divinità della melanconia diciamo per pensiero profondo con la sua falce taglia i piedi di mercurio praticamente lo trasforma da volatile quindi da sfuggente in fisso quindi l'obbliga a concentrarsi inoltre come simbolo mercuriale chiaramente anche in questo caso anche nella simbologia alchemica viene identificato con l'anima infatti nel libro sulla pietra filosofale di Lamspring vengono mostrate queste due immagini del unicorno e del cervo in cui l'unicorno rappresenta lo spirito e il cervo l'anima quindi il cacciatore a questo punto identificato con il cervo e con l'intelletto sbranato dai cani e sbranato dai suoi stessi pensieri morre come dice Bruno al mondo pazzo sensuale cieco e fantastico ed inizia a vivere intellettualmente a vivere la vita degli dei la visione di Diana è l'episodio scatenante dal momento in cui il momento rappresenta in cui si innesta il processo di ascesa dell'intelletto cacciatore e con questo episodio Bruno allude e questo è quello che vi dicevo all'inizio alla sua stessa esperienza iniziatica infatti poi Bruno dice afferma infatti di aver volentieri accettato il gioco di Diana splendor di specie intellegibili cacciatrice di sé che tra la moltitudine delle altre specie di forme o idee lo ha legato a sé grazie a quello ingegno e spirito che si mostrò a Nova che giace sul piano dell'orizzonte campano quindi in questo modo Bruno ammette afferma di aver avuto la sua la prima manifestazione della luce iniziatica nella sua stessa città natale cioè in effetti a Castelcicala che è vicino a Nova e poi vabbè finiamo con una citazione di Bruno certo che è meglio che meglio è una degna ed eroica morte che un indegno e vil trionfo cioè raggiunta questa chiarezza raggiunta questa realizzazione spirituale vale più la pena di fare una morte eroica come in realtà ha fatto che non venire meno al suo pensiero perché chiaramente il pensiero di Bruno ha avuto un peso realmente decisivo in quella che è stata poi l'evoluzione dell'Occidente grazie grazie Sikfrido grazie grazie mille io credo che tu abbia offerto molti spunti interpretativi e credo che abbia offerto anche degli spunti per Stefano e Daniele che ci parleranno adesso io passo la parola a Rosanna grazie Sikfrido Obel adesso passiamo alla parola Stefano Maiorca Stefano il microfono dicevo buonasera intanto voglio ringraziare tutti gli amici che mi hanno preceduto e anche quelli che parleranno dopo di me e ringraziare anche chi ci sta seguendo allora Giordano Bruno è un personaggio complesso e non naturalmente facilmente comprensibile in tutti i suoi aspetti ed era anche uno dei massimi sacerdoti egizi di quell'epoca legato alla sapienza nilense a quella cumana perché come sappiamo nella città partenopea se non sbaglio nel secondo secolo dopo Cristo si insediò una una come dire colonia di egizia alessandrini che edificarono anche oltre alla famosa statua del Deonio un tempio legato alla Dea Iside e lì ritualizzavano con pratiche riservate quindi Giordano Bruno un po' n'erete di questa di questa diciamo riservata sapienza ora nel suo De Magia una delle opere che io amo in particolare si percepisce chiaramente la natura occulta o un po' le conoscenze di Bruno anche riguardo ai geroglicici e alla magia cerimoniale e qui chiaramente leggerò poche righe scusate che lo riguardi e Bruno dice per indicare le singole cose specifiche immagini ricavate dalle cose di natura o da parti di esse impiegate per parlare agli dèi onde operare meravigliosi quando Teut o un altro inventò lettere del genere che oggi usiamo con impiego diverso si attuò la massima dispersione sia della memoria sia della scienza e della magia perciò imitando gli egizi oggi i maghi fabbricati immagini descritti caratteri e cerimonie consistenti specifici chiti e gesti esprimono il loro voto quasi con determinati segni e si tratta della lingua perduta degli dèi quindi è un accenno abbastanza chiaro alla magia cerimoniale e ora veniamo a quelli che sono i collegamenti con l'altro filosofo e mago Tommaso Campanella infatti Bruno scrive due sono le spezie e i numeri cupidi superiore e divino inferiore e volgare due sono i principi essenziali delle cose la materia e la forma due le specifiche differenze della sostanza raro e denso semplice e misto due i primi contrari e attivi principi il caldo e il freddo e qui appunto si ricollega al discorso di Tommaso Campanella di cui poi vedremo il famoso rituale desiderale fatto di tanto legato a scongiurare gli aspetti negativi dell'eclissi infatti anche Campanella parla dei suoi tre principi di cui è composta la natura la materia caldo e freddo come affermava lo stesso Giordano Bruno e lui dice Dio prima fece lo spazio composto pure di potenza sapienza e amore e amore e dentro a quello pose la materia che è la mole corporea nella materia poi Dio seminò due principi maschi cioè attivi il scaldo e il freddo perché la materia e lo spazio sono femmine principi passivi e questi maschi da potesta materia divisa combattendo formano due elementi ci sono anche chiaramente dei riferimenti alla tavola alla tabula zarati tavola smaragadina smaragadina ottavola di smeraldo di armete trisvegisto in quel postulato appunto che dice così in basso come in alto così in alto come in basso per creare il mistero della cosa e quindi come abbiamo detto Campanella era un mago adesso come vedremo infatti lui parla anche dell'astrologia infatti dice frustra Deus nobis astrologiam de pisse tenisi etsian protesse dice se in vano Dio ci avrebbe donato l'astrologia se l'uomo non coltivasse questo dono e lo utilizzasse ma c'è anche un altro aspetto interessante che è quello regato alle primalità per cui lui spiega che non esiste solo un corpo materiale e che la medicina ermetica non deve intervenire solo sul corpo materiale ma anche sulle primalità e le primalità rappresentavano per Campanella quella che è la struttura sottile riprendendo anche il discorso della medicina piragorica quella egizia e in tempi più vicino a noi la teleurgia legata al percorso miriamico di Giuliano e qui entriamo appunto nel desiderale fatto ritando che è questo rito legato a eliminare gli aspetti negativi dell'eclissi e che lui aveva più volte praticato in favore del papo urbano ottavo e qui dice devitantis malis abbequilipsi imminentibus e cioè come evitare tutti gli aspetti negativi legati a un'eclisse che sta per arrivare e dice se nell'aria è un'eclisse solare o un'area che ti può portare negatività e danno cambia ragione se non puoi farlo segui scrupolosamente i dettagli di questo antico in pratica Campanella descrive quella che può essere considerata un'azione di magia simpatica e analogica tanto è vero che lui costruisce in pratica un simulacro con pianeti illuminari per ricreare come succede nella magia simpatica e analogica quella che era la struttura cosmica dove avveniva l'eclisse infatti dice satagia ergo primum ut temperate secondum erazione et quam proximus sedeo erb vivas per orazione et te facta illi te dedicati quindi dice innanzitutto bisogna cominciare con delle preghiere che ovviamente Campanella nonostante legato a un discorso più eredito era comunque legato anche alla compagine domenicana che sappiamo bene quella che ha dato inizio poi all'inquisizione quindi dice è necessario chiudere ermeticamente scusate la casa al fine di evitare un discorso negativo e poi qui dice di bruciare aromi gradevoli un fuoco con legni aromatici il cipresso che sappiamo è legato alle opere diciamo di disinnesco insieme a la corteccia di Pino Marittimo disinnesco di aspetti negativi e poi parla dell'auro il mirto l'allori e il rosmarino e quindi dice che questi profumi sono importanti affinché il rito vada bene e poi chiaramente parla anche della musica che in genere viene utilizzata nella magia cerimoniale infatti dice ecco qua dice che prima bisogna ornare il luogo operativo con dei panni bianchi che rappresentano la purità e poi dice che bisogna usare dei luminari oltre alla rappresentazione di quella che è la struttura analogica e la ricostruzione cosmica di vari pianeti del sole e della luna illuminare la stanza con delle luci ben particolari e poi dice appunto musica meglio viale mette venerea cioè gioviana e venerea perché questa musica allontana in sostanza le le parti negative e lui per lungo tempo però queste ritualità come abbiamo detto per l'Urbano ottavo e quindi appare ovvio che Campanella era versato nella magia cerimoniale operativa magia cerimoniale che come sappiamo si serve di vari elementi come in qualche modo appoggi che possono in qualche maniera evidenziare e supportare l'opera del magista perché come sappiamo il rito in sé non ha valore ma è un supporto che aiuta il magista a estrinsecare le sue capacità infatti non è il rito in sé che deve funzionare quanto le capacità della persona che lo pone in atto a livello operativo ecco perché Campanella parla anche di pietre oltre che di luci di musica e di resine sostanze che servono a creare quella forza energetica che va a supportare il rito e qui in pieno ritroviamo tutti gli elementi della magia cerimoniale a parte che Campanella parla anche di alchimia in qualche maniera a livello simbolico comunque parla chiaramente della magia cerimoniale sappiamo che la magia cerimoniale si serve di elementi che potremmo definire delle pile come ho spiegato volte in qualche maniera a supportare e a dare forza al rito stesso parliamo di metalli di pietre appunto resine particolari luci particolari quindi anche i colori e suoni che tutti insieme servono per l'appunto a dare forza all'opera stessa quindi come si evince da quanto ho detto sinora e da quello che ho letto Campanella oltre al fatto che era un filosofo al fatto che era molto interessata anche la medicina terapeutica era molto legato interessato alla magia cerimoniale e in questo senso infatti ha operato per molto tempo fino a quando poi perduto l'appoggio di Urbano Ottavo viene in qualche maniera viene arrestato e passerà un lungo periodo nelle carceri vaticane dove scriverà la famosa città del sole che è tutta un'opera simbolica legata anche alla magia cerimoniale all'alchimia alla città ideale ma intesa anche ermeticamente ora che cosa accade e questo aspetto ritengo sia fondamentale noi sappiamo che in passato molti cultori di quelle che potremmo definire scienze occulte termine a quanto pare coniato dal grande Elifaz Levi dovevano entrare nelle compagini ecclesiastiche che detenevano la conoscenza detenevano i libri e tutto ciò che occorreva per riuscire a formarsi una cultura di dipernetto e anche operativo quindi sia Giordano Bruno e Campanella erano legati a un concetto operativo molto importante e quindi conoscevano molto bene tutti i procedimenti del resto Giordano Bruno Bruno stesso come sacerdote egizio di Iside conosceva benissimo tutta quella pratica isiaca legata appunto all'operatività e non è un caso che era legato alla sapienza cumana perché Puma la città dove operava la famosa Sibilla comana era legata anche ai culti isiaci che appunto abbiamo detto poi ritroveremo nella città partenopea partenopea scusate quindi questi due elementi il caldo e freddo maschio e femmina sono legati appunto a un concetto diciamo androginico legato all'alchimia quindi oltre che alla magia cerimoniale quindi ci sono molti elementi che collegano Giordano Bruno a Campanella o se vogliamo Campanella a Giordano Bruno e sono tutti elementi di tipo operativo e non è un caso che Giordano Bruno parla delle cifre egizie della magia appunto che veniva espletata anche attraverso le cifre i segni i gesti i segni perché è proprio della magia cerimoniale la ritroviamo anche in un contesto ermetico anche quello che è immersiano ma nella magia cerimoniale diciamo che ha un aspetto più profondo e importante quindi l'apporto di Giordano Bruno a quella che è una conoscenza di determinate pratiche è veramente importante come ho detto al principio non è facile comprenderlo nella sua totalità perché era avanti anni luce quando praticamente operava a livello filosofico legato a tutte le opere che ci ha lasciato che è inutile elencarne perché è già stato fatto e quindi nel De Magia lascia proprio un impronto ben preciso e fa comprendere la sua conoscenza profonda delle pratiche magiche e così lo stesso Campanella che appunto per un lungo periodo fu protetto da Urbano VIII finché il Papa poteva farlo l'unica differenza è che Giordano Bruno fu assassinato si può dire sia per ragioni politiche di altro tipo non voglio entrare nella questione più profonda che riguarda questo aspetto terrificante mentre Campanella riesce poi a fuggire e praticamente si salva vi ringrazio per l'attenzione grazie Stefano grazie Stefano Maiorca adesso passiamo alla parola a Daniele Lagana Buonasera Buonasera a tutti Luca Sì sì Daniele io credo che da 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 Mino Gabriele alla professoressa Giulia da Sigfrido a Stefano sono emersi tanti come dire tanti elementi no? Però credo che un filo conduttore sia sia emerso in primis una differenzazione nell'ambito del del semantema magia no? Cosa si intenda per magia? Io ho sempre in mente eh l'insegnamento di di Gabriele Laporta eh in cui riferendosi a Bruno eh separava la magia in senso eh deteriore eh 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 Vino Gabriele ha usato il termine eh come dire magianila per farci intendere l'aspetto come dire quasi eh stregonico da una vera e propria magia immaginativa è tornato il discorso del pensiero eh è tornato il discorso della dell'immaginazione anche nel simbolismi eh che che ci ha presentato la professoressa gilireta nel nell'esposizione di Sigfrido ma anche nel nell'esposizione di Stefano no? Nel nel rapporto con Campanella è tornato questo 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 filo questo filo conduttore una diversa concezione della della magia e poi un dato fondamentale l'immagine che è legata alla memoria ma soprattutto il concetto di immaginazione senso il quale nessun tipo di 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 concezione sapienziale nessun tipo di pratica esoterica può essere eh considerata valida a te Daniele sì allora diciamo che eh quando parliamo di magia noi parliamo ovviamente della conoscenza sintetica del tutto e della capacità di riuscire a cogliere quindi niente a che vedere con la magia come viene intesa oggi è la capacità di cogliere la complessa trama di rapporti analogici che collegano macrocosmo e microcosmo che collegano come vedremo la struttura del cosmo alla struttura stessa del pensiero e questa conoscenza non può essere mai una conoscenza strana il principio base dell'ermetismo è che per conoscere una cosa bisogna divenire quella cosa quindi non è un movimento intorno all'oggetto ma è divenire quell'oggetto stesso e quindi la magia indica immediatamente al concetto di conoscenza in magia è connesso immediatamente un concetto anche di potenza cioè di realizzazione di esperienza da qui ancora un riferimento all'alchimia gli alchimisti ripetevano post labore cioè la conoscenza non precede l'esperienza ma la conoscenza è esperienza direttamente nasce immediatamente come esperienza allora io prima di entrare in questo tema molto velocemente volevo sottolineare una cosa è stato già detto che Giordano Bruno si trova a vivere in un'epoca di passaggio e lui ne era pienamente cosciente io credo francamente che il suo rugo sia un sacrificio che lui compie volontariamente a un certo punto io credo che lui abbia compreso una cosa che mentre il mondo che lui vedeva dinanzi a sé era afflitto nell'ultima parte di questa antica civiltà perché noi possiamo considerare Bruno come l'ultimo degli antichi ma il primo dei moderni quindi in questo momento di passaggio fondamentale Giordano Bruno sia cosciente di quanto in quel momento il dogmatismo trasformato in fanatismo stava insanguinando l'Europa e il mondo e quindi lui a un certo punto quasi volontariamente rimanendo fedele a sé stesso rimanendo fedele fino all'ultimo fino all'estremo sacrificio all'idea della ricerca della libertà ecco che Giordano Bruno offre il suo sangue e guardate che offrire il sangue il sangue di un innocente in un sacrificio ha proprio il compito quasi alchemico di una trasmutazione delle cose del mondo intorno a sé in questo lo possiamo vedere anche nel concetto cristico che appunto il sangue di un uomo puro di una divinità un patta uomo che viene sulla terra per in qualche modo trasformare il peccato e quindi lo fa attraverso questa offerta del sangue questo sacrificio estremo bene allora il tempo perché è l'ultimo degli antichi il primo dei moderni è l'ultimo degli antichi perché in lui ancora permane una conoscenza cosmologica vivente il cosmo è un'entità vivente Diana che si specchia nuda nell'aria ma dall'altra parte in lui comincia ad affermarsi il concetto del soggetto dell'identità della coscienza e questo è un concetto profondamente magico perché ci porta dal realismo magico che è resistito fino a 1600 all'idealismo magico a quello che comincia a preparare l'idealismo magico del futuro quindi ci porta verso quel tipo di realizzazione in cui dai grimori antichi in cui la magia era nelle cose negli astri nelle pietre che quindi aveva la capacità di influenzare sull'uomo in questo momento invece da Giordano più uno lì comincia a intravedere una possibilità che poi è realizzata sempre più avanti nel tempo e che la stessa scienza moderna con la fisica quantistica arriverà a riconoscere il centro di tutto è dato dalla coscienza dal pensiero e qui ci sono le parole di Zolla che dice causa remota della morte spirituale dell'Occidente con l'incapacità di capire che cosa sia e che cosa significa l'immaginazione e vediamo quanto in questo c'è proprio la modernità di Giordano Bruno e quanto sia importante per noi oggi recuperare il significato di proporre Bruno muore all'alba del 1600 17 febbraio del 1600 poco dopo arriverà il cogito ergo sum cartesiano che in qualche modo segna il passaggio più basso della caduta dell'uomo di identificazione della sua parte spirituale e cosciente nel corpo fisico ma anche paradossalmente in quanto ultimo gradino della discesa dell'identificazione della coscienza con la riflessità cerebrale del pensiero anche il primo della risalita perché lì comincia a formarsi il concetto dell'autocoscienza nel 1616 a Parigi appairanno i manifesti rosacrociani e noi sappiamo che come da quello che ci dice Steiner appunto c'è il passaggio questo india questo passaggio l'apparizione dei manifesti rosacrociani tra l'antica iniziazione appunto il realismo magico e la nuova iniziazione cioè l'idealismo magico dove il centro di tutto non è più nelle cose nel cosco intorno a sé ma è nella coscienza nella capacità del pensiero di riuscire a percepire le cose ebbene allora Giordano Bruno non è tanto il martire del libero pensiero ma piuttosto è il filosofo del pensiero libero e non è un gioco di parole ma una cosa molto importante in quanto Bruno non si è battuto tanto per la libertà del pensiero da un'autorità esterna da un dogmatismo esterno Bruno si è battuto anzitutto per la liberazione del pensiero da se stesso da quei meccanicismi inconsci che lo condizionano che gli permettono o meglio che non permettono al pensiero di prendere coscienza della sua natura e della sua forza profonda tutta la mnemotecnica bruniana è una magia della immaginazione è la capacità di imparare ad educare il proprio pensiero più importante della capacità di riuscire a riprodurre le cose è la capacità in se stessa di riuscire a comprendere attraverso l'immaginazione quella che è la natura profonda la struttura profonda del pensiero la sua materia questa materia è luce scrive Giordano Bruno nel Sigillus Sigillorum anzitutto lui già in precedenza ha specificato un concetto fondamentale dicendo non è dunque filosofo se non chi immagina e riproduce e invece nel Sigillus Sigillorum dice proprio così c'è una sola e semplice forma la quale senza diminuzione si comunica a tutte le cose questa forma universale dell'essere è luce infinita attraverso attraverso questa forma che è in diversi modi che in diversi modi si comunica ai diversi enti secondo diverse figure si esplica la materia ecco vedete Giordano Bruno a un certo punto dice che la chiave profonda del pensiero ciò che il pensiero sperimenta in se stesso quando impara a conoscersi possedendosi attraverso una dinamica una disciplina che è appunto quella dell'arte della memoria quando riesce a percepire se stesso ritrova la sua essenza fondamentale l'essenza del pensiero la sua essenza predialettica per citare Massimo Scaligero questa essenza predialettica è luce e questa luce è la sostanza primordiale di tutte le cose se noi chiudiamo gli occhi e proviamo a guardare nel campo oscuro della nostra mente noi vedremo i pensieri sotto forma di una luce che non è la luce fisica ma è una luce più sottile che gli alchimisti chiamarono astrale perché sfuggente perché brilla nell'oscurità questa luce è la sostanza primordiale di tutte le cose questa luce è ciò che Shakespeare disse appunto citavo prima Giordano Bruno quindi la luce è l'essenza fondamentale di tutte le cose e Shakespeare dirà non a caso attraverso la sua intuizione poetica che l'uomo è fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni cioè l'uomo è fatto di questa luce invisibile tutto è fatto di questa luce e tutto in questa luce si può conoscere e sperimentare ed ecco allora che un pensiero educato all'arte della immaginazione un pensiero capace di risalire attraverso un metodo preciso impersonale freddo lucido che permetta quindi al pensiero di conoscersi mentre si determina e si riproduce il pensiero sperimenta se stesso conosce se stesso questo è il grande segno dell'operatività magica e questo è il grande passaggio che conduce a realizzare queste parole di un grande alchimista Federico Gualdi il quale dice vile è il raggio del sol che è fuggitivo fisso stringilo in polvere ed è tesoro ecco qui si nasconde una chiave fondamentale e lo ricordava giustamente prima Sigfried Ober il concetto è proprio della memotecnica deve condurre il cercatore a questo passaggio a riuscire a fissare quella luce invisibile della mente che altrimenti andrebbe per i fatti suoi e diventerebbe quindi fantasia una sterile fantasia che non produce niente che genera i fantasmi le illusioni del mondo lunare e crepuscolare dove l'incerta luce della luna domina tutte le cose ma laddove invece il mago si esercita a padroneggiare questa luce invisibile a ricostruire nel campo oscuro della propria mente come un artista con fedeltà assoluta con precisione cesellando l'immagine in ogni dettaglio riesci a plasmare questa luce invisibile ecco che l'uomo in quel momento entra in contatto con l'essenza di tutte le cose e quindi può agire magicamente su di sé e sul mondo in un senso trasmutativo e quando si parla quando Giordano Bruno scrive gli eroici furori il concetto essenziale del furore è proprio questo sempre come diceva prima Siglo Frido il curioso è colui che è fuori di sé lo dice proprio la parola è fuori di sé ma chi è fuori di sé? l'immaginazione quando viene esaltata dalla potenza dell'eros dalla potenza dell'amore dello zelo religioso dalla devozione quando viene esaltata dall'estasi della rivelazione dell'intuizione poetica quindi dallo spirito delle muse l'immaginazione e qui ricordiamo quello che abbiamo detto a proposito dei capitoli dei commenti a Ur a proposito della magia dell'immaginazione di Ercole Quadrelli in quel momento l'immaginazione scioglie il suo vincolo col corpo si esalta diventa sostanzialmente uno specchio nel quale è possibile rivedere la trama di tutte le cose la trama stessa dei rapporti analogici di macrocosmo e microcosmo ed ecco che in questa trama inserendosi il mago diviene capace di riuscire a portare una trasmutazione interiore ed esteriore questo è il punto essenziale della magia bruniana attraverso la passione l'immaginazione si libera dal vincolo colporeo e lì interviene lo zolfo della volontà questo elemento igno che va a plasmare questa luce modellandola sull'immagine e allora l'immagine si scioglie perché nel momento in cui questa immagine potentemente sentita dal mago nel campo oscuro della sua mente diviene veramente vissuta non c'è più distanza tra chi immagina e ciò che immagina e in quel momento preciso l'immagine che si è scolpita nel campo oscuro della mente discende nel cuore dove arde la fiamma eterna tutti i miti tutte le religioni ci presentano sempre il fuoco come una coppa in cui arde una fiamma eterna che è la fiamma dello spirito la sede del calore nel corpo umano è il cuore prima giustamente Stefano ci ricordava questi due elementi fondamentali il freddo e il calore se la mente è fredda ed è la grande cesellatrice delle immagini il cuore è l'elemento caldo quello che gli dà vita e quando l'immagine è perfettamente identificata quando la coscienza del mago diviene la cosa immaginata in quel momento l'immagine discende nella fiamma del cuore e lì sciogliendosi passa attraverso il sangue a trasformare alla radice stessa quelle che sono i nostri corpi sottili e quindi permette al mago di accedere davvero a una conoscenza altra che non è più una conoscenza di chi contempla qualcosa dall'esterno ma è la conoscenza di chi vive e sperimenta perché la propria anima trascendendo i limiti del corpo può elevarsi fino a divenire tutt'uno come nel mito di Atteone con Diana anima muti grazie Luca grazie Daniele posso due piccole considerazioni poi vediamo se se c'è qualche altra riflessione un secondo ecco qui allora io ringrazio ringrazio tutti due veloci non voglio rubarvi tempo anche perché la diretta è stata lunga giustamente quindi il contesto secondo me è importante considerare il contesto in cui bisogna collocare la figura e la dottrina di Giordano Bruno perché ancora oggi questa è una domanda che è giusto porsi dal mio punto di vista c'è tanta ostilità nei confronti di Bruno non solo in ambito ecclesiastico ma c'è una difficoltà nella comprensione della figura e della dottrina io credo che uno dei degli elementi importanti assolutamente innovativi che Bruno pone in essere è il ritorno non all'antico ma il ritorno al primordiale e quindi lo pone in una condizione che non è legata all'antico e al moderno lo pone in una condizione di eterna di eterna attualità il cosiddetto perché è un cosiddetto panteismo di Bruno quando nel nello spaccio della bestia trionfante ci ripete natura es deus in rebus quindi nella natura è incarnata la presenza del luminoso beh non è una bestemmia nei confronti della religione rivelata è semplicemente una constatazione della grande tradizione per esempio platonica o della grande tradizione ermetica noi possiamo immaginare la figura del serpente uroborico il famoso entopan l'uno il tutto il tutto e l'uno in cui non c'è una separazione lo ripete anche Hegel nella sua filosofia magari non completamente consapevole del concetto dell'intero e c'è questa c'è questa c'è questa dimensione c'è la dimensione dell'emanazione del divino no di una di un divino che si esplica nel nel mondo per riconoscere se stesso questo è un processo di catabasi anabasi che noi ritroviamo nei testi del 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 neoplatonismo ma che non è confinata questa questa concezione semplicemente nel mondo antico nella napoli per esempio del del rinascimento del primo umanesimo troviamo la concezione naturalistica di un giovanni pontano che è una concezione naturalistica non intesa con l'accezione moderna del termine parliamo di una natura vivente di una natura naturante non di una natura naturata cioè morta distaccata l'uomo si pone in quel contesto secondo la dottrina bruniana ma secondo tutta la tradizione esoterica napoletana o Stefano giustamente parlava di Tommaso Campanella che è un calabrese non la sua a stilo ma noi in Telesio per esempio ritroviamo concezioni concezioni molto molto simili quando anche nel nel diciannovesimo secolo no vari autori voi avete citato citato Kremers ma non solo Kremers parlano di quasi di materialismo no nel senso non di di materie inerte poi la scienza moderna la scienza quantistica ci ha spiegato che anche la dimensione minerale è una dimensione vivente non esiste la materia inorganica è tutta una concezione organica pensiamo anche alla 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 cora di 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 platone erano per esempio coloro che erroneamente concepiscono platone un antesignano di di sant'agostino è esattamente come dire il il contrario è il superamento della dimensione eh della dimensione della dimensione dualistica è la concezione di un uomo che non è più succupe e distante nei confronti del luminoso ma orficamente partecipa al luminoso è inquadrato armonicamente nel luminoso e quindi nel nella natura d'altronde anche e poi passo la parola a voi anche nelle concezioni della fisica quantistica no eh se voi pensate alla come dire alla famosa legge di conservazione della della massa di Lavoisier no cioè ma che cosa ci dice nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma e quindi non c'è una separazione all'interno del 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 processo cosmologico non c'è un qualcosa che 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 nasce l'ex nilo cioè che nasce da 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 qualcosa che non che è indefinito eh come dire precedentemente ma è una continua trasformazione come è il pensiero dell'uomo è una continua trasformazione come la materia eh adoperata dal dagli alchimisti è una continua trasformazione è un continuo lavacro eh di 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 se stessi quindi è una prospettiva che è completamente 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 diversa è una prospettiva che è una prospettiva assolutamente se ci pensate innovativa forse eh la professoressa eh che ventina Gdlida aveva cioè ha ci ha visto giusto nel senso che ha detto questo è una prospettiva che eh non vincola l'uomo alle situazioni contingenti ma gli dà la possibilità volitiva quasi come dire mercuriale no di essere così labile di essere così intuitiva da permettere di cangiare no di cambiare ogni situazione a proprio vantaggio proprio perché eh c'è questa capacità questa autocoscienza questa presenza a noi stessi io credo che nel mondo attuale ma soprattutto nella situazione storica contingente che vive Bruno questa autonomia quest'uomo che si alza dalla preghiera del mistico per come dire per pregare oppure per invocare eh noi oggi su Facebook abbiamo messo una bellissima citazione ad Apollo di Giordano Bruno eh il luminoso con lo sguardo sereno e fiero di chi è in una condizione e termino non di sudditanza del divino ma di filia diceva dicevano i neoplatonici di comunanza va bene io vi metto ci mettiamo tutti in ecco qui se qualcuno vuole aggiungere qualcosa così poi ci avviamo al termine io volevo dire soltanto una cosa a proposito di questo termine che torna sempre di panteismo di Bruno anima mondi sono concetti fondamentali in effetti lui non è un pensatore dell'antico perché diciamo lui è quello che ha sviluppato il principio di Copernico che però era un'ipotesi matematica l'ha sviluppata in una nuova metafisica e questa nuova metafisica l'ha creata fondendo insieme tutto quello che aveva appreso appunto con questa sua memoria futura con questa sua capacità di anima ha in un certo senso tratto il frutto del 500 tutto ma anche il 500 degli artisti questo è un periodo di grandi immagini quindi tutto si fonde insieme e lui ha creato una nuova metafisica in cui lui chiarisce molto bene qual è il ruolo di Dio nel mondo con quell'immagine della nave che sta nella scena delle ceneri quindi il primo dei dialoghi inglesi c'è un'immagine di una nave che è un veliero sulle onde che probabilmente avete visto perché è molto famosa allora questo veliero lui dice Dio è il timoniere della nave quindi fa parte del tutto ma non è nell'uomo delle vele è solo il timoniere lui guarda soltanto alla direzione finale cioè lui stabilisce il fine che sarebbe il concetto della provvidenza quello che poi si sviluppa come concetto della provvidenza allora però Dio non fa parte del mondo cioè Dio non è nelle cose quindi non so non è che se si stacca il ramo di un olivo come accadde a Omero noi per esempio possiamo a Enea noi per esempio possiamo pensare adorare l'albero adorare l'idolo no perché Dio lì non c'è Dio è questo fine che ci governa tutti ecco perché io trovo molto attuale quello che vi ho suggerito alla fine questa idea del noi perché un po' sono le stelle diceva Bruno con il linguaggio suo Dio ci fa vedere le stelle ma poi non ci dice niente di importante e anche il mozzo della nave può fare qualcosa nel senso di quel che Dio vorrebbe chiaro quindi e si chiama non panteismo ma panenteismo cioè la filosofia usa questa parola per dire un Dio che è nel mondo ma che non si identifica col mondo quindi che esclude tutte le forme di religione primitiva ho finito volevo dare questa finalizzazione perché si dice sempre panteismo ma non è così il filosofo distingue grazie grazie Stefano vuole aggiungere qualcosa è stato giustente di bassa magia e di stregoneria però esiste anche una stregoneria superiore legata al culto di Diana e ai culti misterici di Diana che ritroviamo poi nella sapienza etrusca e nella magia etrusca che è una cosa completamente diversa dalla stregoneria di basso livello grazie Sigfrido passo la parola a te perché se vuoi aggiungere qualcosa poi ti leggo una domanda che credo che tu sia possa rispondere vuoi aggiungere qualcosa leggimi prima la domanda la domanda è questa domanda perché Ghenon ignora Bruno evidentemente va bene quello Bruno diciamo che è stato riscoperto dalla Jezzi in un certo senso cioè perché prima era appannaggio di tocco molto malagevoli quindi non era neanche entrato realmente nel patrimonio al quale noi attingiamo per questo penso che Ghenon non ne fosse a conoscenza oppure ne avesse una conoscenza molto superficiale cioè non non credo che abbia approfondito questa questa tematica invece devo fare i miei complimenti a Daniele perché veramente secondo me ha centrato molto bene questo fatto diciamo il rapporto fra il il cervello diciamo la mente e il cuore e citare anche un paio di cose cioè per esempio il fatto della della polvere solare della cosa e la ritroviamo in diverse rappresentazioni cioè un tema tra l'altro sta nel libro di Bocchi simbolicarum questionem il titolo esattamente dove è attribuito a Marcello Cervini che poi diventa papa e che faceva parte dell'Accademia dei Virtuosi gli dedica proprio un emblema un simbolo di carattere prettamente alchemico e infugita sia dei versi recitati dallo stesso Cervini che dedicava praticamente in cui allude alla pietra filosofale ma poi proprio l'immagine che c'è di un altare con il cuore fiammeggiante che quindi praticamente rappresenta e poi con i raggi del sole che vanno in una lente e quindi diciamo proprio questo rapporto fra il sole materiale ma soprattutto il sole simbolico qua dobbiamo intendere la religione solare di Bruno e la religione dell'intelletto del sole come intelletto dell'uomo come forza pensante del cosmo dell'universo cioè va anche al di là del sole infatti quando lui accetta la rivoluzione copernicana però praticamente ci viene a dire guarda Copernico non hai tratto tutte le conseguenze dal tuo pensiero è giusto è giustissimo però in realtà tu dovevi anche ribadire il ritorno ad una religione solare dove non si intende la religione a che natone e che ne so e cose del genere ma del sole intellettivo del sole interno cosa che tra l'altro anche nella tradizione dei dominicani non è che fosse assente perché quando si rappresenta San Domenico col sole in vetto sostanzialmente si vuole dire questo e anche quando si rappresenta il sacro cuore di Gesù no? col cuore fiammeggiante sempre questo a questo si allude la religione di Bruno era eversiva perché praticamente faceva a meno della religione e quindi era anche molto pericoloso per quello che era l'assetto delle cose l'assetto politico e non a caso poi Bruno diventa l'ispiratore dei movimenti successivi dei movimenti liberali diciamo che vanno sotto l'insegna dei Rosa Croce ma anche al di là e tra l'altro anche rispetto a Campanella ricordiamoci Campanella stava nel carcere a Sant'Elmo a Napoli e praticamente l'andarono a trovare Toppia Sadami e non mi ricordo un altro che erano due emissari dei Rosa Croce e che fecero in modo di trasfarsi la città del sole e farla arrivare in Germania dove fu pubblicata praticamente e quindi c'è questo legame che è estremamente interessante e la spinta iniziale realmente l'ha dato Bruno che praticamente nella cui figura confluisce tutto l'universo rinascimentale cioè Marsiglio Ficino Rumanesimo la rinascita l'ermetismo la tradizione ermetica eccetera e vengono aperte le porte per evoluzioni successive questa è diciamo la chiave di volta di tutto il sistema e diciamo era anche molto giusto un'epoca di cambiamento cioè il ruolo di Giordano Bruno 1600 segna la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra molto difficile ed è analoga e su questo sono d'accordo insomma a un momento di grandi cambiamenti come anche quello in cui stiamo vivendo noi in cui ancora non è chiaro cioè non abbiamo un Giordano Bruno che ci possa illuminare in questo momento ma è proprio quello che ci servirebbe grazie grazie Daniele voglio aggiungere qualcosa il microfono il microfono niente dicevo Platone diceva conoscere e ricordare questo secondo me è il significato più profondo dell'arte della memoria non semplicemente ricordare le parti di un discorso appreso ma immergersi nelle profondità della propria anima che è l'anima del mondo ora l'anima del mondo che è appunto quella intelligenza che pervade le cose è un livello oltre il quale poi c'è la dimensione spirituale che agisce nel mondo ma è staccata ed è separata appunto da questo elemento solare che è la vera intelligenza a cui l'uomo deve tendere deve giungere trascendendo il piano della realtà tra l'altro è proprio l'immagine che tu hai messo anche nella copertina diciamo di questa di questa serata uscire dal mondo per entrare in un qualcosa che è in qualche modo appunto il nocchiero di questa di questa meravigliosa macchina vivente intelligente che è il mondo la cui intelligenza però ha una radice che è al di là di quello che noi vediamo poi d'altronde la tradizione classica che cosa insegna la distinzione tra gli dei cosmici e i dei encosmici se noi prendiamo questo tipo di rappresentazione i dei cosmici sono secondo anche il dettato di Paracelso i nostri stati i nostri stati di coscienza proprio per giungere a una dimensione quella che che Prolo chiamava la dimensione apofatica l'uno dell'uno l'uno che si conosce solo negando e quindi che è l'inconoscibile però credo che 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 abbiamo fornito dei come dire eh degli elementi lo ripetiamo sempre eh degli elementi di riflessione eh nessuno di noi credo che eh abbia potuto in pochi minuti eh esprimere un un ragionamento esaustivo credo che le le dirette che facciamo con Daniele le opere di Stefano le opere di Segifrido le opere della professoressa Gigi Reda le opere di 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 Andro possano aiutarci ad entrare anche in una visione del mondo nuova no una visione una visione del mondo eh diversa che forse possa io a me è piaciuta tanto quel discorso sulla lotta no che sì è nel senso che è una è una degli aforismi che abbiamo letto come dire letto con Daniele e Chiara Tognolo qualche settimana fa parlando di Plotino no cioè l'uomo della sapienza è un uomo di lotta nel senso autentico del del termine distinguendolo dalla pura violenza no e quindi è bello questo eh Rosanna se mi permetti faccio le comunicazioni di rito finale io ovviamente eh ringrazio tutti tutti quanti voi eh ringrazio Daniele Stefano la professoressa Clementina Sigfrido Alessandro Orlandi e professor Mino Gabriele che rivedremo in altre dirette su su pagine filosofali ringrazio ovviamente la padrona di casa Rossana Lia e tutti i suoi come dire eh amici che ci seguono ci seguono sempre eh ringrazio eh due persone nello specifico eh Paolo Izzo della stamperia del Valentino e eh Per Luca Pierini di Rebis che hanno eh ci hanno incoraggiato nel 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 in 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 questa serata eh le comunicazioni di rito eh mercoledì prossimo ventuno e quindici saremo in diretta con eh Sara Alice Manis e Cristian Guzzo per riparlare e approfondire e approfondire ulteriormente la figura eh del del vampiro e di Dracula quindi rientreremo nel nel nell'antico e nella letteratura eh moderna e contemporanea eh salteremo il fine settimana prossimo per arrivare a mercoledì uno in cui ci sarà un evento che eh a cui io tengo particolarmente eh realizzeremo una lunga intervista a Moreno che è il curatore del eh dell'enciclopedica e mastodontica opera la rivelazione di Hermite Trismegisto di Festugger che meritoriamente è stata tradotta eh in questi anni da da Mimesis quindi con con Moreno parleremo di questa di quest'opera eh di di Festugger l'ultima comunicazione ovviamente è che con 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 Daniele eh ci vediamo questa volta non eh in virtuale ma dal vivo eh sabato alle ore dieci visto che molti ci stanno chiedendo di precisare l'orario sabato alle ore dieci presso la storica libreria Salvemini di Firenze per parlare di tradizione ermetica e eh iniziazione e quindi eh l'invito è a tutti gli amici della Toscana della Liguria e chi magari ci può anche raggiungere da da Emilia fatto questo io vi consiglio ovviamente di visitare eh il canale di audiolibri di 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 Rosanna Rosanna Lia a cui in cui eh tra poco dovremmo realizzare perché eh Paolo eh della stamperia mi ha detto che che stanno per uscire uno speciale su Gabriele D'Annunzio quindi uscirà un libro della stamperia dedicato a Gabriele D'Annunzio e noi dedicheremo una puntata subito dopo la pubblicazione del libro della stamperia grazie a Rosanna dedicato dedicato al Vate quindi ci ci allieteremo un po' non solo con la poesia ma anche con con altro grazie a tutti e buona serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti